Buonasera amici telespettatori, eccoci qua presenti con Tempi Supplementari partiamo ovviamente con il nostro calcio dalla Serie D, la seconda categoria sapete che da qualche settimana abbiamo un gol vado praticamente alla Serie D all'interno dei Tempi Supplementari, ma tutto il nostro calcio che andremo a trattare anche questa sera con tante immagini, tante servizie come di consueto, l'ospite in studio, la solita squadra, solita Paolo Piccinelli, ciao Paolo, Stefano Savotelli, ciao Stefano ricordo sempre a Luca Carminati, fra poco arriva l'anniversario del nostro Luca e cercheremo di ricordarlo in qualche modo presenti, anticiperemo cosa cercheremo di fare l'ospite con noi questa sera, Bruno Sesani, ciao Bruno grazie, buonasera a tutti direttore sportivo Juveness Praunghese, li dico tutte e due perché sai che noi breviamo per fare più la svelta con i tempi o diciamo Juveness Praunghese però ci chiama Juveness Praunghese, parleremo ovviamente della Juveness di questo gran giro di ritorno ma anche di tutto quanto insieme a Bruno Sesani allora subito con i temi della giornata, diciamo subito che finalmente c'è una squadra che vince un campionato, subito di partenza che è il Pianico nelle ultime tre settimane l'ha vinto grazie agli altri più che a se stesso perché un pareggio nelle ultime tre partite però ha vinto il campionato vuol dire che anche le altre non hanno fatto grandi cose siamo andati e saremo andati a intervistare siamo andati oggi a intervistare il presidente Zeno Tacolini lo sentiremo questa sera allora andiamo con i temi della giornata sono questi, serie D, alti e bassi praticamente per quanto riguarda là in cima la classifica e Piacenza in volo, dunque Piacenza ne approfitta perché dopo ne parleremo con Paolo è in vetta Calepina, colpo e speranza perché domenica c'è il Club Milano a Grumello dunque grossa occasione se vincesse di provare ancora a sognare la salvezza diretta Breno, passo funebre wow, che tema hai scelto un titolo io penso, mi dispiace ci sorridiamo anche perché è calcio però purtroppo chiediamo anche a Paolo come uscirne da lì non sappiamo più cosa fare andiamo a vedere con gli altri temi velocemente eccellenza Godono Leone e Sondro perché si avvicinano praticamente queste squadre mappello che è stato bloccato con l'altra Rianza si sono bloccate a vicenda momento scansorosciata sveglia Vertovese perché la Vertovese nell'ultima giornata è quella che vinceva sempre nell'ultima giornata insomma per me sta rischiando anche quasi i playoff Casazza colpo salvezza penso che sia quasi definitiva il colpaccio che ha fatto a Pavone Mello sabato con la Casazza sia quasi definitivo per la salvezza promozione velocemente anche qui andiamo a vedere i temi della giornata Val Calepio pari in dolore perché lui pareggia fatica ma le altre intanto si alternano a cercare di guadagnare qualche punto l'ha fatto solo Albino Gandino che goleada per quanto riguarda Albino Gandino gorle e cenate colpi vitali questi colpi esterni importanti prima categoria gironee è promozione perché è arrivata la matematica colpi in coda infatti stanno facendo risultati le squadre che giocano per la salvezza playoff per tanti vedremo tante squadre invischiate per la zona playoff seconda categoria gironee Alba vicino cioè Albano praticamente ho messo l'Alba è vicino per quanto riguarda l'Albano non è così intuitivo però se ci guardi se ci pensi l'Alba è vicino per quanto riguarda l'Albano che ricordiamo è uscito in Coppa avremo le immagini grazie anche a Savi brusa di gioia perché il brusoporto nell'altro girone adesso allungato per l'esine che è una diretta rivale sarà difficile arrivare lì sotto questo oratorio brusoporto partiamo da lì e partiamo dalla serie D i risultati girone B Paolo andiamo con i risultati allora la giornata è iniziata sabato con l'anticipo tra Arconatese e Real Calepina ha vinto la Real Calepina 1-0 una vittoria importantissima che permette appunto la formazione di Capelli insomma di come dire di conquistare punti preziosissimi ovvio che la salvezza è ancora tutta da conquistare però è un segnale direi molto importante sorride alla grande il Piacenza perché ha vinto a Crema e ha approfittato anche della contemporanea sconfitta del Caldiero che ha perso il derby con la Clivense della sconfitta della Varesina che ha perso a Desenzano un Desenzano che viene da sette gare con risultati utili consecutivi quindi in grande forma la Varesina che in settimana ricordiamo è stata eliminata dal Folloni che lavoreranno nella semifinale di Coppa e quindi probabilmente insomma un po' di di delusione un po' di stanchezza un po' di tossine insomma hanno caratterizzato anche la performance delle Finici ieri a Desenzano però è stata anche una giornata in cui abbiamo detto appunto dell'Arconatese bene il Palazzolo che vince 1-0 con la Castellanzese e poi bene anche il Brusaporto che si riscatta dalla sconfitta interna di domenica contro il Crema e va a vincere in casa del Club Milano in fondo della classifica vittoria importantissima non in fondo per la lotta a salvezza la vittoria del Caravaggio da quando il Villavalle ha raggiunto il record di punti si è un po' inchiodata invece la formazione del Caravaggio vincendo questa partita ha messo in cascina punti preziosissimi come del resto la vittoria di Ciserano Bergamo che ha vinto a Trezzo Dada 2-0 vediamo che è una classifica in cui nessuno dal Caravaggio in giù dal Caravaggio fino alla Castellanzese Club Milano nessuno può dirsi ancora al riparo diciamo da qualche brutta sorpresa ultima notazione Folgore Caratese 11 risultati utili consecutivi hanno perso la prima di ritorno e poi le hanno vinte e pareggiate le altre vuol dire che la cura di Carmine Parlato funziona alla grande anche stramotto la squadra giocatori però hanno avuto un bel po' di problemi adesso sembra che abbiano trovato diciamo l'indirizzo giusto e magari l'anno prossimo possono partire da qui per l'anno prossimo che sappiamo che il presidente Cricitello ambizioso vuole portare ma c'è un altro presidente molto ambizioso il nuovo proprietario del Legnano eh sì ex Alessandria Enea Benedetto Alessandria sono un po' disperati non lo conosco però mi sono un po' documentato ieri Legnano ha vinto quindi hanno diciamo battezzato con la vittoria l'arrivo del nuovo proprietario le dichiarazioni sono importanti la Serie C come obiettivo da raggiungere alla svelta intanto però comincia a salvarti perché la classifica in questo momento non è proprio bellissima da vedere però un primo segnale esatto era il proprietario che è stato qualche mese ad Alessandria anche arrivato con grossi propositi poi ad Alessandria vediamo l'ultima classifica in Serie C con una crisi un po' societaria quello che sarà esatto Bruno prima di passare al giro gol le bergamasche di questo giro ne andiamo a vedere perché io penso che Bruno Porto e Villavalle comunque si andrà a promuovere come ha detto lui Villavalle da quando l'ha giunto a queste cadute alti e bassi per le motivazioni a questo punto le motivazioni no io sento Sgro molte volte anche perché è un amico e credimi che stanno provando a fare le cose seriamente fino alla fine poi il calcio con alcuna tese hanno fatto un'ottima partita e hanno perso per una situazione così un rimpallo sfortunato però non sta mollando sicuramente ve lo posso assicurare anche se non sento niente a grossità ma ho contatti con il mister che ci tiene particolarmente a finire bene lui sì perché poi lo sentiremo da dichiarazioni lui sì poi con i giocatori sai quando hai raggiunto il tuo obiettivo e sei passato un periodo difficile però i giocatori se vogliono restare in una società importante come il Villavalle dovranno cominciare a pensare anche a fare il bene del Villavalle che io penso che lo stiano pensando che è sicuramente una situazione così momentanea il Bruso Apporto sta facendo non bene benissimo e secondo me però quelli che bisogna fare un plauso maggiore secondo me è il Caravaggio perché con la rosa che mister Terletti ha a disposizione sta facendo veramente cose importantissime e anche una gara da recuperare sta facendo cose importantissime schierando diversi giovani essendo stato ripescato poi alla fine tante cose bisogna farli cioè i plausi per me la squadra del quel girone bergamasca dell'anno io darei il premio attualmente al Caravaggio è vero perché come dici te chi conosce bene la realtà Caravaggio dove è fatta tanti giovani dove l'enonatore ancora lui Terletti che lavora bene dove la società è quella ma che sono entrati chissà che cosa e sono sempre stati fuori da questa zona non sono mai rientrati con una certa tranquillità bisogna fare veramente grandi meriti ripescati all'ultimo anche loro bene o male hanno fatto la squadra quando e dunque è un po' come il Castagnetto che prendono da un'altra parte però le altre stanno lottando disperatamente per salvarsi e una è quasi retrocessa mentre a Caravaggio lavorano in maniera diversa questa è la situazione partiamo col giro con il Paolo così andiamo a commentare un po' il gol dopo avere Ponte San Pietro Bruno siamo tutti dispiaciuti ma ormai a questo punto del campionato e con i punti che è in classifica penso che si possono rendere conto anche loro che ci sia pochissimo da fare se non pensare al futuro riprendersi e fare bene l'anno prossimo Paolo abbiamo appunto visto il gol della Real Calepina che ha sbancato il campo dell'Arconatese qui siamo sul campo del Crema il Piacenza si porta in vantaggio e manterrà poi l'1-0 grazie a Giorgio Recino ci prova qui una prima volta la palla resta lì e poi la zampata di sinistro del Bomber capocannoniere del campionato a quota 16 un gol importantissimo perché la concomitanza degli altri risultati consegna al Piacenza il primo posto in classifica il Caldiero Terme ha la sua bestia nera ufficiale che è la Clivense già all'andata vinse la Clivense a ritorno questo gol di Colferai al minuto 38 della ripresa a decidere questa sfida e a far perdere punti importanti al Caldiero in ottica classifica restano comunque dei playoff naturalmente bello anche il colpo del Desenzano che batte 2-0 la Varesina questo è il gol di Spaviero siamo al quarto d'ora del primo tempo 1-0 arriverà poi il 2-0 a metà del secondo tempo con Paloschi c'è questo pallone rubato a metà campo Paloschi smista la palla sulla destra e va al centro per ricevere il pallone lo riceve ma dal compagno posizionato a sinistra un bel colpo di testa che si infila nel 7 ed è il 2-0 Paloschi che ha cominciato anche lui a segnare ha avuto bisogno di un attimo di tempo per carburare ma il suo contributo lo sta dando parlavamo prima appunto di Caravaggio che sta facendo grandi cose ma è il Villavalle nella gara di ieri a passare in vantaggio il colpo di testa di Meic spesso e volentieri in gol questo giocatore il pareggio arriva sempre nel secondo tempo dopo una manciata di minuti con Bertoni e poi a 10 minuti dalla fine complice secondo me una difesa che concede un po' troppo spazio arriva il gol di Doria che ha il tempo di mettere giù il pallone prendere la mira e battere il portiere 2-1 dunque per il Caravaggio ci trasferiamo a Palazzolo qui la castellantese in maglia nero verde la combina grossa c'è questo retropassaggio il difensore si fa praticamente passare il pallone sotto il piede Arras non ha bisogno di questi favori ne approfitta comunque scarta il portiere e realizza il gol che vale il quinto posto in classifica la casatese mette un po' di paura all'inizio alla forgole caratese passando in vantaggio c'è questo calcio di rigore dal dischetto Gomez Varas realizza il gol del momentaneo 1-0 ma la squadra di Carmine Parlato ha in un grande momento di forma ripeto 10 risultati utili consecutivi compreso quello di ieri e arriverà appunto il pareggio con Bright al minuto 25 portiere che forse poteva fare qualcosina di più arriverà anche il raddoppio di Arpino 6 minuti più tardi anche qua vediamo che il portiere ieri hanno combinato qualche errore di troppo e poi il solito Barranco a 10 minuti dalla fine realizza il gol della sicurezza vediamo appunto la conclusione del giocatore palla nel 7 il portiere non ci arriva ed è vittoria importante per la folgore caratese che possiamo tranquillamente ormai considerare fuori da ogni pericolo il brusaporto dopo essere stato battuto dal crema in casa va a vincere con il club Milano la punizione di Selvatico la palla in mezzo nessuno la tocca il portiere rimane lì in attesa di qualche tocco che non arriva e del gol della vittoria della formazione del brusaporto siamo al minuto 17 del secondo tempo siamo a Trezzo Dadda punizione Perico sul secondo palo in rompe difensori un po' immobili lo lasciano colpire ed è il gol del vantaggio quando il cronometro segna il minuto 93 arriverà anche il 2-0 c'è questo pallone in profondità Bertoli si lancia il portiere fa un'uscita che io non capirò mai bastava controllare il giocatore eventualmente poi i suoi compagni sarebbero arrivati in soccorso Bertoli comunque dal dischetto realizza la sua quattordicesima rete in questa meravigliosa stagione per lui chiudiamo con la rete del Legnano che batte 1-0 il fanalino di coda Ponte San Pietro e Bardelloni che qua vediamo fornire a Staff un pallone invitante Staff realizza davanti al portiere non sbaglia 1-0 quindi vittoria importante anche per bagnare come abbiamo detto l'arrivo del nuovo proprietario in quel di Legnano beh mi è arrivato un messaggio che si lega un po' a quello che poi parleremo Paolo che dà ragione praticamente a Bruno Sesani allora sono d'accordissimo con Sesani sul Caravaggio calcolando che anche dopo poche giornate il campionato il Caravaggio è dovuto rinunciare a Marrazzo che Marrazzo è andato a Castagnato e poi ne parleremo e poi di Castagnato diremo qualcosa diremo qualcosa anche se Marrazzo magari fortissimo fino all'eccellenza bisogna capire nelle serie D se faceva così tanto la differenza magari quasi stato un bene per il Caravaggio col senno di poi che si è liberato o meglio se n'è andato perché poi Caravaggio è andato avanti a fare punti in classifica questa è la classifica con la zona salvezza che vede un po' anche la forbice molto vicina perché se Trizio che la cura di Paolo all'inizio qualcosa sembrava facesse invece adesso è un disastro totale il medico di Paolo non ha più cure per il suo paziente mi sa al di là di poter agganciare Caravaggio o Virtu Ciserano o il club Milano per la Calepina Castellanzese c'è anche la possibilità di mettere la famosa forbice su Crema il Crema ha perso ieri col Piacenza però aveva fatto due vittorie importanti contro Caldiero e contro il Busaporto è una squadra che da qui alla fine sicuramente qualcosa farà la Trizio non mi pare lì dietro tra tutte le squadre che vediamo Castellanzese Real Calepina l'Atrizio mi sembra purtroppo quella che dà meno garanzie di poterne venire fuori quindi ovviamente l'obiettivo deve essere onesto e sincero cioè puntare a non creare la forbice e provare a giocarsi alle play-out se possibile però devi superare il Crema o il Legnano e non è facile perché il Legnano vincendo ieri avendo anche questo nuovo proprietario che dà entusiasmo all'ambiente insomma diventerà difficile per la squadra di Trezio Dad Bruno prima di andare in pubblicità è impossibile è proprio impossibile per il Desenzano quota 53 sognare una rimonta incredibile adesso è a 7 punti dalla vetta il play-off è rientrato nel gioco play-off il Desenzano anche se il Palazzolo ha una partita da recuperare nella zona play-off la cura Contini la sta portando il Desenzano cross a squadra questo Desenzano 7 punti ma con 5 squadre davanti penso però infatti ma parli parli per una possibile vittoria del campionato no io ti sto dicendo il sogno incredibile sarebbe quello ok perché per possibile vittoria del campionato tu devi fare benissimo ma devi pensare anche che 4-5 squadre che sono delle top squadre sbaglino tutte tutte poi per arrivare molto molto improvvisamente adesso stanno un po' zoppicando Varecino poi vedrai quando non ci sarà più a zoppicare che non zoppicheranno più è Piacenza che non zoppica più anche perché fare il playoff non so cosa sì è la soddisfazione ho fatto il playoff però fare il playoff di serie D non è che ti porti dei grossi benefici se non il poter dire ho fatto un buon campionato ho fatto il playoff anche se poi il Desenzano ha circolato una voce aveva parlato anche il presidente che aveva detto non è ancora ora di dirlo è uscito un video credo sulla pagina social di Desenzano la settimana scorsa ma non era il presidente io non ho capito chi fosse questa persona insieme a Fulvio Collovati che preannunciavano grandi cose per il futuro quindi un messaggio molto enigmatico come a dire adesso è presto adesso non vi diciamo nulla però preparatevi perché pochi d'artificio sarà anche così la bomba che sapevamo noi è una piazza che ha potenzialità adesso però stiamo parlando del campionato di calcio attuale e delle ultime partite che quello che succederà al futuro io auguro che sia come dicono però al momento penso che possa dare poco Collovati come centrale non è male no esatto solo cose positive nel senso che non è una cosa negativa non fa più la regola però secondo me la sua parte ecco ma sicuramente piazza è importantissima e cercando di far bene nel futuro sicuramente con una ferrappi con una ferrappi sarò vicino io dico solo di questo nome con una ferrappi sarò vicino voi legate voi quello che volete noi ci fermiamo pubblicità poi rientriamo ancora avremo un servizio poi andiamo sulla pagina Vreno ritorniamo in diretta tra Caravaggio e Villavalle andiamo a vederlo con le parole di Sgro e ovviamente le parole anche che arrivano dall'uomo che è praticamente deciso la partita del Caravaggio andiamo parliamo della gara con Alessandro Doria il match winner Alessandro una partita difficile comunque avete vinto con quali qualità? abbiamo vinto con la grinta la fame era un risultato che dovevamo ottenere l'abbiamo ottenuto giocando con voglia ho visto un grande spirito da parte della squadra da parte di tutti i 23 giocatori che erano stati anche convocati quelli che sono andati in tribuna ho visto proprio l'attaccamento alla maglia e sono proprio orgoglioso dei miei compagni della squadra e dello staff perché stiamo lavorando tanto ce lo meritiamo e dobbiamo continuare così sono una squadra comunque costruita bene una squadra forte ci sta comunque hanno un attaccante che la carriera parla da sé sono andati in vantaggio meritatamente però noi siamo stati bravi a starli sul pezzo concentrati abbiamo avuto una grande mentalità sono tre punti d'oro sono tre punti che ci fanno avvicinare al nostro obiettivo che era quello di mantenere la categoria e farò comunque un buon campionato la squadra è stata costruita bene dal direttore dalla società perciò comunque la classifica adesso è giusto anche guardarla siamo in una posizione tranquilla lo eravamo anche prima abbiamo dimostrato carattere ancora complimenti ai miei ragazzi vorrei saperlo anch'io perché abbiamo fatto una buona partita fino a poi siamo andati in vantaggio meritatamente come hai detto tu e da quel momento ho pensato di portarla a casa la partita però ecco abbiamo preso abbiamo preso un gol su un calcio d'angolo l'1-1 non rimpallo la palla se l'è ritrovata lì e da quel momento siamo andati in difficoltà perché abbiamo fatto un grosso errore pensavamo che la partita fosse già vinta però queste partite fino al 95esimo 96esimo non finiscono mai ma è sciolta anche non riesco a capire il motivo perché fino fino al gol nostro eravamo in partita fino al gol 1-1 loro eravamo in partita è fatta come dovevamo farla siamo meritatamente siamo andati in vantaggio non capisco perché sull'1-1 ci siamo sciolti ecco che mancano ancora sette partite sono ancora tante le partite punti sono ancora tanti e dobbiamo riprenderci già da domenica questa è praticamente la conferenza stampa grazie Antonio Milanesi le parole degli addetti ai lavori dopo questo derby prima di arrivare a Castagnato e Brino perché dobbiamo parlare un attimino di lì io andrei a vedere anche l'altra bergamasca cioè grazie a Paolo Zerbi allora vediamoci Arconatese Real Calepina dunque la vittoria importantissima da Calepina perché non solo è stata fatta sul campo di una che sta giocando per vincere il campionato un po' in difficoltà ma per il Real Campion che doveva dare segnali importanti e sono arrivati e ha giocato anche Silenzi questa volta che può essere un bomber ritrovato in questo finale torneo andiamo a vedere dopo la vittoria di Villa Dalmè un'altra bergamasca sulla strada dell'Arconatese c'è la Real Calepina impegnata nella lotta salvezza con gli oro blu che però vogliono confermarsi ai piani alti del girone B di serie D e non a caso l'Arconatese parte forte da uno spunto di Ronzoni arriva il tiro di Leshaimurato poi Cavagna manda le stelle qualche minuto dopo da un errore di Castelletto in fase di impostazione Ferrandino recupera palla serve Quaggio che sceglie di piazzarla sul pallo più lontano ma il numero 9 non angola troppo la conclusione Pisoni fa una gran parata passato lo spavento la Calepina mette la testa fuori dal guscio cross dalla destra da parte di Quarena ma Lionetti fa suo il pallone con gli attaccanti bergamaschi che non riescono a girare il pallone in rete ancora Calepina pericolosa colpo di testa di Gardoni palla a lato non di molte è un'Arconatese che fatica a innescare le punte ci prova allora Leshaimurato da lontano ma il numero 7 non prende lo specchio la Calepina non è affatto sulla difensiva da un recupero palla bella idea di Ruffini arrivano di gran carriera due giocatori ospiti Mattosini manda clamorosamente a lato con la porta spalancata Arconatese che a questo punto è consapevole di dover stare allerta da un corner Ruffini apre sulla destra per Piacentini eccolo qui lo spunto dell'esterno della Calepina cross sul primo palo del capitano ma la girata di Vallisa va a lato di un nulla più Calepina che Arconatese nel finale di tempo bello spunto da parte di Silenzi che fa tutto bene ma calcia debolmente con Lionetti che fa sua la sfera dall'altra parte cross dalla sinistra da parte di Gentile tutti sorpresi sul secondo palo arriva Pal che di testa non inquadra lo specchio da un corner seguente l'Arconatese troverebbe il gol in cornata di Delcaro il successivo tapin vincente di Luoni ma col numero 3 in fuorigioco si alza la bandierina dell'assistente nonostante le proteste del capitano con le immagini nel secondo tempo subito occasionissimo a Roblu lancio di Cavagna colpo di testa di Le Chai con l'uscita a vuoto di Pisoni ma è monumentale Vallisa nel salvare sulla linea passata la paura la Calepina ha la sua chance per il vantaggio spunto di Gardoni sulla sinistra cross nel cuore dell'area di rigore colpo di testa di Quarena colpo sicuro monumentali riflessi di Lionetti che dice no ma la Calepina come nel primo tempo prende coraggio palla dentro per Silenzi che però non riesce a risolvere una mischia da lì è brava l'Arconatese a trasformare l'azione difensiva in offensiva ripartenza della formazione di casa ma Quaggio manda a lato la conclusione finale minuto 20 ecco l'episodio decisivo nel match punizione da parte di Luca Ruffini tiro deviato nessuno riesce a intervenire il pallone finisce alle spalle di Lionetti Calepina in vantaggio a metà del secondo tempo a sorpresa ma non per quanto visto in campo i ragazzi di Capelli infatti continuano ad attaccare approfittando del momento chiusura di Luoni sul cross di Castelletto dalla sinistra mentre il forcing dell'Arconatese non c'è gli oro blu si vedono solo con questa punizione di Longo finisce 0 a 1 per la Calepina tre punti importantissimi in chiave salvezza l'Arconatese invece torna a masticare Amaro grazie dunque Paolo Zerbi grazie dunque anche Antonio Milanesi e poi ringrazieremo anche gli altri che ci mandano sempre le immagini ci garantiscono le immagini o ci permettono di avere le immagini per quanto riguarda il nostro calcio io andrei sul girone sul girone C adesso si confondo è D, B, C adesso per quanto riguarda le eccellenze la serie D qui parliamo di il girone C dove c'è il Breno Castegnato Breno ho detto passo fundo è praticamente la squadra adesso la vedremo la classifica disastrosa Castegnato il 3 a 0 di ieri ma soprattutto sembra che ci sia un po' di movimento la butto lì subito esatto allora il Castegnato ieri ha perso 3 a 0 contro l'Uparense già nel primo tempo la partita era di fatto chiusa e in giornata si è diffusa questa voce è una voce quindi non la riportiamo perché non è una voce è un insieme di voci che fanno un vocione secondo cui il presidente imperiale starebbe attenzione al condizionale starebbe valutando di sostituire il tecnico Ivan Guerra non è ufficiale nulla però è una voce molto insistente che mi è arrivata proprio nel tardo pomeriggio verso le 6-6 e mezza quindi non è una roba di questa mattina ma c'era vento quindi vanno veloci arrivano veloci trasportati dal vento e dalle nuvole e stanno saltando fuori anche alcuni nomi un nome che è venuto fuori è quello di Stefano Tignonsini ex tecnico del Darfum ma già accastegnato nella sua prima esperienza da allenatore e poi quello di Roberto Aversa che ha allenato il Ghedi il Rovato il Valcaleppio sono nomi così poi magari in realtà Guerra sembra stare un po' sull'asse delle formagelle come dice un mio caro amico però magari domani rientra tutto quanto sta di fatto che Guerra al di là di tutto di come andrà secondo me sta facendo un miracolo perché quando avremo modo male di fare dei commenti più ampi insomma il Castagnato era conciato male al 30 di giugno aveva soltanto un giocatore ha dovuto ricostruire tutto e secondo me insomma Guerra merita un po' più di rispetto per il lavoro che sta facendo è lì che se la gioca nel frattempo perché la vediamo 30 punti è vero in questo momento è in zona play out praticamente perché Montecchio Maggiore Castagnato Cialis Musan e Breno sarebbero in zona play out al dia della forbice o meno in questo momento la forbice però essendo a più 6 il Castagnato ha la concreta possibilità di mettere la forbice sulle due dietro con un Breno che non va più neanche a sparargli il Cialis Musan qualche piccolo segnale lo dà ma non granché è la possibilità di mettere la forbice ma c'è la possibilità anche di dover fare i play out col Breno con il derby col Breno o in questo momento fra me tra i due tra Breno e Cialis Musan il Cialis è meglio nel senso a qualche punto lo fa non fatica però a qualche punto lo fa adesso sarebbe davanti per la differenza reti il Cialis Musan rispetto al Breno il Breno è in una fase critica tu hai parlato di passo funebre non è del tutto sbagliato a livello sportivo perché la squadra ha grosse difficoltà ha uno spogliatoio ha un'infermeria strapiena e quindi ci sta che insomma queste partite qua si possano perdere però è un andazio che va avanti a tutto l'anno quindi se le assenze possono rappresentare comunque una giustificazione per questa partita non lo sono per tutte le altre gare in cui la squadra era anche al completo io quello che ti chiedo Paolo è tu vivi le partite interne del Breno praticamente le hai viste tutte non mi sembra che arrivino grosse reazioni anche le dichiarazioni di Bersi partendo dal mister che forse non l'ho mai visto molto è vero che magari non serve non so se tu andando stasera proporai l'intervista di Bersi l'hai sentita l'ho sentita è un allenatore molto provato dalla situazione l'ho visto molto teso molto tirato dice alcune cose che io francamente non condivido del tipo ma la squadra aveva avuto anche un buon approccio però dopo 15 minuti l'ho stato 2 a 0 cioè il buon approccio dov'è? fammi capire cioè se il buon approccio sono i primi 30 secondi sì allora è stato un buon approccio però al di là di tutto è una squadra che ha grosse difficoltà già quando è al completo ieri mancavano veramente tanti giocatori italiani che si è beccato tre turni di squalifica per quella presunta gomitata che ha visto solo il guardalini e mancherà quindi anche le prossime due gare mancava Melchiori mancava Brancato e San Pietro che ormai sono di lungo corso mancava ancora Maritato mancava anche il Pelamatti e si è fatto male pure Diego Vita che è l'unico giocatore che insomma sta tenendo un po' in piedi questa squadra non so se è un infortunio che lo terrà fuori per qualche tempo però insomma è una bruttissima notizia e l'impressione come hai detto te che non ci sia assolutamente reazione io in tribuna a parte qualche tifoso che mugugna che tira giù magari l'impropero cioè io non sto vedendo una società che prende posizione una tifoseria che prende posizione sembra una piazza oramai rassegnata per me di quelle da Mestre da Mestre a scendere l'unica che non ha cambiato il mister dopo magari non c'entra niente a cambiare ma tutte praticamente lì dietro hanno cambiato il mister hanno provato a dare la scossa poi non hanno risolto niente perché se sono lì vuol dire che non ha risolto più di tanto ma sembra che a Breno ci sia quasi non dico rassegnazione sì sì ma è rassegnazione vera perché l'allenatore non è mai stato in discussione non che debba essere per forza da quel punto di vista lì il Breno ha sempre tenuto questa linea anche gli scorsi anni il mister non ha mai cambiato anche situazioni difficili però l'anno scorso che è stato l'anno più difficile per gli altri anni con Tachinardi la squadra comunque non ha mai veramente rischiato la retrocesione anzi è andato crescendo l'anno scorso hai fatto un grandissimo giro di ritorno non aveva senso esonerare l'allenatore perché comunque andavi bene con Suave o con un altro allenatore la squadra comunque con i due innesti di dicembre hai cambiato completamente il passo qua non hai cambiato nessun passo il Breno è così stirato o comunque alla canna del gas non dà segnali mi arriva un messaggio che lo leggo a Breno occorre un serio cioè serio il portiere sai che era stato a Breno eccetera eccetera sì effettivamente il portiere nelle ultime giornate sia del vecchio che dei caldini se pensiamo che la colpa sia di due ragazzi del 2004 2005 non so che classe siano che sono i giocatori il Breno ha vinto quattro partite quest'anno sì cioè quattro partite non penso sia colpa del portiere no no l'ha vinta la penultima l'errore del portiere è talmente plateale e visibile che agli occhi di un profano di uno che magari di calcio capisce ma per di per colpa del portiere è vero che il portiere commette degli errori ma io vedo anche gol sbagliati situazioni nel centrocampo e anche situazioni tattiche una squadra che vince quattro volte in tutto l'anno ha altri limiti non può essere ma io dico questo sabato arriva questo se io vado in macchina e mi si accende la spia dell'olio io il giorno dopo vado dal meccanico e metto l'olio a Breno si sono accese tantissime spie sono state ignorate dalla prima giornata perché noi nella nostra ignoranza sul tema calcio abbiamo detto ragazzi proviamo facciamo brigiamo e i risultati hanno dimostrato che l'allarme c'era non hanno fatto nulla quindi se dovesse andare nella peggiore dell'ipotesi se la saranno cercata cosa vuoi che ti dica sempre con quel 4-3-3 spiacere perché da Camuno mi girano veramente le scatole a vedere il Breno in questa condizione perdere ancora la Serie D e sabato arriva questa squadra che è un rullo compressore allora è a 11 punti potrebbe essere a 8 da un Chioggia che è deve recuperare la gara col Montecchio Maggiore qui hanno hanno passeggiato sul Chions che è una squadra in grande crisi 10 gol subiti nelle ultime 3 partite 3 sconfitte quindi il Chions non è in questo momento una squadra come dire particolarmente temibile anzi se devo dirla tutta il Breno deve fare la corsa sul Chions secondo me più che sul Montecchio perché il Montecchio Maggiore ieri ha vinto 6-0 da segnali comunque di vitalità il Chions secondo me è abbastanza in difficoltà come il Breno però io nutro sempre la speranza che recuperando qualche giocatore e provando anche a sfodrare un po' di orgoglio personale i ragazzi di Bersi qualcosa di positivo riescono a fare da qui alla fine ricordiamo sabato pomeriggio anticipo Altasara tra Breno e Dolomiti Bellunesi Dolomiti che potrebbe sognare ancora qualcosa di vedere questo Chioggia che zoppica il Chioggia zoppica un po' due pareggi una sconfitta ieri hanno pareggiato col Bolzano per cui vuol dire che il Chioggia sta arrivando un po' col fiato corto in questo finale di stagione però ha un vantaggio talmente consistente che secondo me anche un grande Dolomiti difficilmente lo raggiunge mancano 7-8 partite alla fine del campionato e questi sono che arrivano per questo girone vedremo cosa succederà l'ultima partita Mestre-Est e poi vabbè il giro playoff il giro le squadre ormai salve abbiamo visto che la zona la salvezza è indicata quelle 4-5 squadre poi tutte le altre sono praticamente salve non possono sognare più di tanto forse il Dolomiti che magari inventandosi qualcosa può sognare più di tanto ma poi tutto il resto è il discorso a parte che questo gol è viziato da un evidentissimo fallo al centrocampo nel recupero del pallone però vabbè l'abbiamo detto prima fare i playoff da che mondo è mondo in Serie D non ha un grandissimo valore sportivo ha un valore di prestigio ma un valore magari importante per la squadra per l'allenatore che ci arriva diciamo abbiamo fatto i playoff però fondamentalmente io non so se lo sforzo economico di arrivare ai playoff e di giocarseli valga poi la candela quello che ha di bello il Mori-Santo Stefano è il terreno di gioco sì l'impianto sportivo al di là della pista no no la struttura sicuramente è bella però purtroppo anche qua sei gol dal Montecchio maggiore vuol dire che proprio sei 15 punti insieme al Bozzano vuol dire che probabilmente stanno giocando anche tanti giovani per fortuna il Breno deve giocare ancora con questi qua e mi auguro che almeno con questi tre punti possono arrivare così come è successo e l'andata però hai detto bene dobbiamo capire gli infortuni noi aspettiamo che rientri qualcuno ma purtroppo ogni domenica esce qualcuno il Breno ha fatto debuttare un 2006 ha fatto giocare meni titolare cioè insomma è una squadra che ovviamente ha dovuto il mister ha dovuto dar fondo a tutte le risorse che aveva e tutti gli uomini che aveva e sicuramente non era ieri la gara da vincere però praticamente potevi magari schierarti in un modo per dire facciamo l'anticalcio mettiamo il pullman e proviamo a portarla a casa e forse questo è uno dei limiti di Bersi che non riesce tante volte a rinunciare al suo credo calcistico a favore di qualcosa che sia magari meno bello meno spettacolare ma un po' più utile e qui rivediamo il gol che ha subito il Breno mentre arriva un messaggio e dice ragazzi diciamola tutta squadra non all'altezza della categoria quattro partite vinte questa è la verità dove si vuole andare e ovviamente riguarda il Breno non possiamo che concordare perché questo è ciò che il campo ha detto perché i numeri sono quelli hai vinto quattro partite due dei quali col Bolzano una col Mori Santostefano cioè una a Castagnato quando Castagnato anche lui era ancora più in difficoltà dunque segnali ne arrivano pochi con le altre hai fatto pochi punti a parte qualche pareggio che vediamo qua in maglia bianca è in un gran momento per carità perché con questa sono quattro vittorie consecutive però insomma una squadra come il Breno certe partite a parte quella di ieri per le difficoltà però insomma certe partite le devi vincere non puoi vincere solo con le squadre nelle ultime ha preso anche passivi pesanti un paio di domeniche fa ne ha presi sei esatto 12 gol nelle ultime tre partite quindi torneremo a parlare serie di settimana prossima adesso andiamo a pubblicità e apriamo il capitolo seconda categoria arriveremo a parlare di prima chi ha vinto il campionato arriveremo a parlare di una tante di eccellenza insieme a Bruno perché abbiamo tutti i gol del giro nel CD eccellenza e anche un po' di gol di Trevigliese e Calozio Corte per ora pubblicità però ritorniamo in diretta dunque apriamo subito velocemente il capitolo seconda categoria andiamo a verci qualcosina in seconda categoria vedremo gol di Stefani dell'1 a 2 contro l'Albano vedremo un po' di immagini grazie a Savi dell'Albano che è stato eliminato dallo Flaga in Coppa in settimana erano quarti di finale da parte di Coppa dunque era ancora partita secca per la seconda categoria e adesso questi sono i risultati avevano detto che la partita di cartello era quella che si giocava a conclusione tra conclusione Albano non era male neanche Rovetta Carobio perché squadra in lotta per i playoff e questi Stefano sono i risultati che sono arrivati sì l'Albano dopo aver vinto nell'infrasettimanale con la Lembrese non ha più sbagliato ha cambiato passo è tornato a quello di inizio stagione le altre dietro hanno continuato a zoppicare ed è andato via poi ha vinto i scontri diretti sì ha vinto i scontri diretti perché ha battuto la Lembrese ha battuto il Rovetta e ha battuto il Clusone quindi ha battuto tutte quelle che lo inseguivano e adesso davvero ce l'ha in mano ormai le partite mancanti sono pochissime mancano 6 partite quindi davvero con più 11 sul Carobio Carobio-Rovetta partita tirata e Rovetta ha pareggiato in pieno recupero penso che sia un punto che alla fine non accontenta nessuno perché il Carobio ovviamente si stacca in maniera definitiva dall'Albano e il Rovetta per il momento resta fuori dalla zona playoff sì però hai pareggiato nel recupero perché se perdevi ieri contro Carobio Carobio andava a 53 al tuo 46 chiaro per come si era messa la partita ovviamente il dispiacere è per il Carobio e la soddisfazione è per il Rovetta perché l'ha tirata su chiaramente parlando in ottica visita della partita il punto cambia poco andiamo a vedere magari mentre vediamo un po' le immagini dell'Albano poi adesso vi dirò io quali sono le partite qui siamo ad Albano grazie dunque Salvi per le immagini l'Albano che ci andava lo flagra in maglia arancio tenuta tenuta tipo spitaletto o se no la seconda maglia è a vertovese se non sbaglio vero male quel colore va in vantaggio praticamente quasi subito e poi non ho visto grandi reazioni a parte l'Albano a parte un'occasione o due almeno dagli eliai poi bisognava essere giù a vedere la partita fatto sta che è stato eliminato da un flagra che aveva un seguito lo vedremo alla fine piuttosto importante come tifosi dunque una squadra che ci crede a queste finale perché Bruno seconda categoria non è come la Serie D eccetera Coppa e Predioff portano al sogno che se non vinci il campionato lì ti puoi sistemare sicuramente sì oltre che resta nel palmarès della società ti porta la categoria per cui è tanta roba bisogna creerci sicuramente abbiamo visto il gol di Stefani dell'1-2 che aveva eccesso le speranze l'Albano poi è rimasto in 10 nel finale qua invece siamo a Palosco terra Bergamasca però altro girone nel girone lì dove Palosco rivalta l'esine che era andato in vantaggio l'esine era andato in vantaggio sull'1-0 poi Palosco squadra altra squadra ambiziosa anche lei in piena lotta playoff anche qua il pubblico la grande poi alla fine ma praticamente su due calcio d'angoli abbiamo visto l'esine perde questa partita e non dico che perde la speranza di vincere il campionato ancora molto però il brusaporto vincendo ieri può anche permettersi di fare il riposo mantenendo il vantaggio mantenendo la veta e poi segnali importanti adesso non so gli scontri diretti che ci saranno adesso vediamo la classifica non so gli scontri diretti che ci saranno in questa seconda categoria per quanto riguarda il brusaporto perché il brusaporto e l'esine si è giocato però ha questo vantaggio 54 può andare il pontezzanano a 51 l'esine potrebbe andare a 50 però il brusaporto rimane sempre avanti rimane sempre avanti anche una partita avanti questo è un girone ovviamente con meno squadra e quindi le partite che mancano sono davvero poche adesso se pensiamo che era molto tirato praticamente era molto tirato questo girone fino a tre settimane fa erano tutte lì una da un punto con l'altro si sorpassavano a vicenda le formazioni adesso vedendo questo vantaggio netto del brusaporto a cinque giornate deve difendere a cinque giornate quasi il palosco che ha due partite a recuperare potrebbe essere la formazione che arriva a 50 in teoria poi bisogna con chi deve recuperare ma io ripeto il brusaporto è sempre davanti sempre davanti stecca anche quella ma può steccarne ancora una perché resta ancora davanti ha un passo insomma praticamente il brusaporto lo deve buttare via lei il campionato anche se ancora aperto sicuramente non è chiuso come in altri come in altri gironi o come è il girone dell'Albano sicuramente questa è la seconda categoria andiamo subito nel campionato di promozione perché poi resteremo tanto prima e anche promozione soprattutto in eccellenza in promozione ci vediamo i risultati e andiamo a verci anche le immagini di due partite il camarnese che perde con le cenate e l'Azzano che pareggia a seriati i risultati sono questi partendo dal 6 a 1 dell'Albino Gandino sul Basiano Masate doppietta di Pellegris beh sì qui le cose da dire sono tante l'Albino Gandino torna a vincere era la diversa giornata che non vinceva ovviamente settimana scorsa non ha giocato rinvio a causa acqua vittoria al di là delle dimensioni ampie e importante perché l'Albino Gandino ovviamente sta provando ancora non solo a inseguire i playoff in cui è pienamente dentro ma anche libertà della classifica il Torre del Rovere ieri beh con l'Almè profuma un po' di occasione specata perché ha giocato il finale in soprattutto a numerica però l'Almè ha sbagliato il rigore e comunque non dimentichiamo che il Torre del Rovere è arrivato alla sedicesima partita l'ha imbattuto quindi ci sta anche di avere una partita meno brillante rispetto alle altre il gol ha fatto il colpaccio perché sicuramente andrà a rivaltare nel recupero la seconda forza del campionato quella che comunque al match di ieri si è rappresentata come seconda forza del campionato è sicuramente un grandissimo colpo al di là poi della vittoria di ieri il gol è da 7 usati utili di fila quindi prima del colpaccio di ieri aveva dato continuità di risultato e adesso è pienamente in lotta non solo per per evitare l'ultimo posto che ormai è nato della pagazzanese ma anche per raggiungere la salvezza vincevano 0 o meno 2 dal Falcaleppio teniamo presente che in promozione l'anno scorso hanno ripescato mi sembra 10 squadre ok per cui se tanto mi dà tanto il vincere i playoff del proprio girone potrebbe voler dire salire di categoria potrebbe voler dire perché poi dipende tante cose e arrivare guarda qualche parata la prima un'altra ancora e arrivare col vantaggio della posizione conta tanto per cui il perdere una partita così due punti sul finale del campionato e perdere magari una posizione una possibile posizione in classifica c'era ma noi te la giriamo nel senso arrivare a due punti dal Falcaleppio con un Falcaleppio che nel ritorno è partito da più 9 più 10 sai è un conto essere a 4 è un conto essere a 2 ma anche perché mi risulta che debbano anche recuperare delle partite quelle degli altri per cui potrebbero non essere 4 potrebbero diventare 7 no beh torde rovoli potrebbero stare lì no parlo della Colognese esatto alla Colognese si parla è l'unica che ha giocato tutte le partite mentre altre 3 per cui sono 4 punti però forse non realistici perché 2 si scontano per cui faranno punti per cui potrebbero cioè sicuramente dopo il recupero non sono più 4 punti sono di più devo dire il marge del Falcaleppio adesso è aumentato però il Falcaleppio ne è a ritorno ha vinto soltanto 2 volte è una squadra 9 partite ovviamente perché la decima settimana scorsa non l'ha giocata è una squadra che sta evidentemente pagando dal punto di vista fisico io l'ho vista un paio di volte sicuramente non è più la squadra brillante del giorno andata e sta inevitabilmente pagando anche dal punto di vista dei risultati ci sarà il turno infrasettimanale in promozione proprio questa settimana e quella sarà un passaggio importante beh c'è come si chiama qua stiamo avendo seriate azzano il pareggio sul calcio di rigore azzano qui il rigore è piuttosto netto perché lo sgambetto ai danni del giocatore è a 10 minuti dalla fine per la formazione è arrivato questo pareggio che mantiene vivo ancora questo azzano che è un po' in difficoltà dobbiamo dire che questa settimana hai detto di recuperi no questa settimana c'è il turno infrasettimanale quindi giocano tutte e poi prossimamente si andrà anche a recuperare le partite rinviate di cui la torre dell'Overe a Bino Gandino una è torre dell'Overe a Bino Gandino e l'altra azzano o Valcalepio per quanto è uguale il vertice è ovvio in quella partita lì sulla carta è più duratore una delle due si ruba i punti e la Valcalepio potrebbe allungare a questo vantaggio prima abbiamo guardato anche le immagini di Gavarnese di Cenate sotto cioè la Gavarnese fa la partita il portiere del Cenate esce con i lividi per le parate che ha fatto però la parola il Cenate ha vinto Erbach è un bel portiere e la Gavarnese si ritrova ancora risucchiata sotto in questa classifica pazzesca in cui se vinci scali 4-5 posizioni se perdi te ritrovi quello che mi lascia un po' così conoscendo un po' le squadre non avrei mai pensato all'inizio del campionato che Lazzano si trovasse in quella posizione è come nessuno penso perché secondo me è una buona rosa una buona squadra e mi stupisco che possa essere il recupero di Lazzano contro Valcalepio non è che l'asterisco lì non è che ti possa portare a sognare chissà che cosa nel calcio il pallone rotto nel calcio non dà niente per scontato perché può succedere di tutto però vedendo la classifica così se Valcalepio porta fuori la partita di recupero ha delle belle chance c'è un'altra sotto che come diceva Paolo di Riffo di Raffa due settimane fa era a 25 insieme a Lazzano ma questo è un coppo pesantissimo adesso lo vediamo a 31 nella parte sinistra della classifica che come dimostra questo campionato qui vediamo la classifica dei portieri dove io vedo poco l'ancima il portiere della Zingoni Verdelino è in testa Remondini un buon portiere Remondini poi Manzoni del Gorle c'è Flaccadori della Colognese ex Cenata e via via ex Prada Lunga ex Rivoltano Flaccadori ho vinto il campionato e promozione con Flaccadori io ho sempre considerato un gran portiere Flaccadori che forse poteva far di più di quello che ha fatto però adesso è un portiere anche di esperienza importante il settore giovanile è importante se mi dai la classifica felice volevo rivedere un'altra cosa fare altre considerazioni sulla classifica questa è bene o male la classifica Zingonia e Fiorente Parcalepio ieri è pareggiato con una Fiorente che era in grande spolvo la Fiorente vedo che l'ultima due ha pareggiato ma vennerà 5 vittorie consecutive e l'ultima due ha pareggiato con la Capolista e con la Colognese quindi è una squadra che in questo momento è in grandissima forma forse la più in forma del girone sì sì ma lì è una bella lotta per dall'Albino Gandino la Fiorente una resterà fuori teoria eh sì no anche in pratica per forza sicuramente no dico teoria una di quelle cioè una resterà fuori poi non sappiamo quali saranno quelle che ovvio che quelle a 44 hanno un vantaggio importante a 5 giornate dalla fine sì 44 e poi magari una partita recuperare per cui comincia a diventare una delle due farà punti di sicuro se non tutte e due Albino Gandino e Torreone perché recuperano fra di loro dunque di qualche punto salta fuori chi vince ovviamente l'ingresso e il playoff assicurato però come ha detto Bruno importante a Casaccia l'ha dimostrato l'anno scorso giocare in casa posizione in classifica fatichi 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 ma la finale è portata a casa e sei venuto in eccellenza perché il doppio risultato il doppio risultato conta tanto in partita secca sul tuo campo conta e la promozione torno a dire probabilmente vince il tuo il tuo girone ti porta già in eccellenza Bruno di quelle lì per me la Colognese non so chiedo a te che non conosci bene i giocatori sicuramente meglio di me e noi la Colognese forse è la più sorpresa di quelle di dentro in quell'otto perché Albino Gandino comunque è una signora squadra il Torre del Roveri è fatto come signora squadra la Colognese è quella che sta facendo bene è la più positiva di quelle a 44 sta facendo bene ma gli è mancato anche gli sono mancati attaccanti per cui sta facendo bene sicuramente lungo il buon lavoro di Martinelli come ha visto non conosco l'ho visto solamente una partita l'ho visto una partita con Albino Gandino e ha vinto nel secondo tempo 3 a 0 una partita che era pari fino a quel momento lì per cui sono tutte squadre secondo me che si equivalgono dai numeri è una squadra abbastanza solida più che non è spettacolare senza Sirtoli il capocannoniere da fine andata è una buonissima quindi avesse avuto l'organico sempre completo calcolando che è lì senza sì dopo l'organico è completo certo è difficile averli perché vorrei vedere poi tutte le altre quante volte hanno avuto l'organico completo anche il Baccalepio gli è mancato sì da l'ola ha mancato alcune partite tutti se vuoi se si vuole evidenziare una società invece che un'altra ma io ritengo che a questo punto lì meritano tutte di essere lì coloniese mi dispiace che abbia buttato via quell'occasione ieri perché è una società che io conosco da anni mi piacerebbe che potesse tornare o andare in eccellenza però ieri questi tre punti qua secondo me a livello di non di arrivare nei playoff ma di salire che poi potrebbero sì quando mancano sei partite alla fine è chiaro che gli episodi sono determinanti ieri potevi fare un salto molto significativo perché arrivavi a un punto dal vertice è vero con una partita in più però a un punto dal vertice tenendo presente che dietro come dicevate la Fiorente sta pedalando ed è un'ottima squadra la Fiorente ha avuto dei problemi all'inizio ma adesso si è raggizzata c'era vecchina e playoff molto pericolosa è pericolosissima molto pericolosa sono tutte pericolose anche la Zingoni è bella squadra attenzione che lì veramente come dicevamo c'è il vantaggio del doppio risultato in casa allora io punterò su quelle che hanno il doppio risultato perché altrimenti non devi cioè lì sono tutte pari l'equilibrio totale sicuramente anche la Zingoni più attendista e la paghi spesso succede così chiedo a te Stefano perché mi dico un messaggio finale Clusione Rovetta si gioca giovedì 4 aprile a Casnigo allora non sapevo la conferma ufficiale però sì la finale del trofeo Ceresoli è Rovetta Clusione è arrivata adesso la conferma dal buon Savi siccome Savi sai che lui sa tutto Savi lui è dietro le quinte ma non lo vediamo traficone traficone il buon Savi ci dà la conferma finale Clusione Rovetta si gioca il giovedì 4 aprile a Casnigo allora il trofeo Ceresoli infatti non riuscivo a capire per cosa era questa finale dunque fra poco mancava la data adesso abbiamo anche la data e il posto il dopo Pasqua ci fermiamo Pulisitari rientriamo con la prima categoria prima categoria abbiamo detto apriamo la pagina prima categoria prima vediamo i risultati poi partiremo dall'intervista anche al presidente da Collini perché qui bisogna festeggiare la formazione del Pianico l'anno scorso in questo periodo cominciamo ad andare in difficoltà perdiamo la semifinale di Coppa poi sono retrocessi nei play-out contro la Brembillese sono stati bravi se vogliamo a fare la fusione a chi c'è al Brembillese a crederci nella prima categoria e poi quest'anno tutto un altro anno tutto un altro anno vincere un campionato a metà di marzo capita veramente non sono tante le squadre che a metà marzo hanno già vinto il campionato due mesi prima diciamo anche la verità che nelle ultime tre giornate loro l'hanno vinto prima di tre giornate fa al campionato perché nelle ultime tre hanno fatto un punto e le altre hanno fatto quasi peggio di loro praticamente ma più che altro perché scorrevano le giornate il fine settimana è stato cominciando sabato sera a Gandino fra poco vedremo il servizio Gandinese Pianico è finita 2 a 2 ma il pareggio del Villongo ieri o il Mozzo che ha pareggiato 7 minuti dalla fine e la Calimba Vamervana che ha perso Pianca 1 consentono a avere quei 16 punti di vantaggio a 5 dalla fine di avere la matematica per la formazione del Pianico e Ranica arriva anche a lei a 43 bella veramente bella la zona playoff io dico al di là della zona playoff che proviamo a parlarci della salvezza ma la zona playoff è bellissima da seguire beh ci sono 5 squadre per 4 posti secondo me tutte quante e anche l'Accademia metterei dentro l'Accademia Isola perché 37 è una partita in meno e questo fa capire quanto sia un giro perché tra tutte quelle io non ne vedo una meno forte veramente io non so poi se ci sono anche degli sconti chi è più in forma chi è meno in forma no ce ne sono tanti da qualsiasi quindi è ancora tutto molto incerto ecco diciamo Paolo che chi affronta il Pianico adesso cioè c'è il Villongo c'è Domenica l'Accademia Valbrembana non è un male affrontarlo io non so come hanno vissuto la notizia della vittoria del campionato a Pianico ma ma a me è dispiaciuto che l'abbiano vinto così perché immagino che ieri ognuno fosse per i cavoli propri hanno giocato sabato non si aspettavano i risultati di Villongo la gioia è stata diluita cavoli esatto è stato bello vincere sul campo anche un pareggio è bello vedere magari i tifosi che inseguono Arnaldo con la brocca no quello l'ultima volta mi hanno lavato a me quindi non è il caso esatto vediamo cosa succede da San Giovanni Bianco perché poi si andrà a giocare però hai già teorie hai già festeggiato adesso vedremo le immagini anche del presidente che festeggiano ieri a casa del presidente due messaggi che riguardano uno saluto dal super tifoso del Torre dei Rovali che ci segue sempre e l'altro vedo che la Zognese con il cambio del mister Rinaldi ha cambiato passo è un'ironia penso è abbastanza è abbastanza è un'ironia questo messaggio perché tutto sommato come è arrivato primo messaggio sulla Gavarnese che dicevano forse è l'anno buono per la Gavarnese ma messaggio è classico è un po' di velato la Gavarnese ecco dall'altro lato invece Comi al Paladina ha cambiato e Comi l'andamento della squadra adesso stanno viaggiando davvero forte hanno continuità di prestazioni e di risultati in questo momento il Paladina tecnicamente è ancora in zona di play out però penso che sia destinato ad uscirne presto andiamo subito questa è la classifica abbiamo detto abbiamo detto bene ecco c'è dopo ne parleremo dopo mentre vedremo anche le immagini perché vanno un po' momenti in questo momento le formazioni più in forma sono Villongo e Ranica Villongo da un po' Ranica sta rientrando alla grande dopo aver fatto una flessione vittoria importante anche negli scontri diretti la Gandinese che secondo me viaggia a mille all'ora pagano un attimino di più il Sovere il Brembate che ormai penso che stia guardando la salvezza e vedo che anche l'Efe però 35 deve recuperare ancora una partita l'Efe sai a momenti esce a momenti rientra ma se le altre davanti zoppicano l'Efe deve provare ancora a crederci fra due neanche a fare l'opposta fra due cioè l'infrasettimana e settimana prossima sarà l'Efe Gandinese i derby al Martinelli pur a me l'Efe non mi ha mai dato l'impressione di essere una squadra da quelle posizioni perché ha sempre rimasto fuori però come detto Bruno la zampata finale sai ma la davanti hai 5-6 corazzate rispetto a te sì sì quello sicuramente è difficilissimo il bello sarà gli scontri diretti perché dovrà giocare col Sovere dovrà giocare col Gandinese è ovvio che partendo da dietro devi vincere lì non basta il pari però è bello ancora potersela giocare andiamo a sentire dai il presidente Tacolini l'abbiamo raggiunto oggi a sentire cosa pensa lui di questa vittoria e anche magari del futuro del Pianico Allora siamo con Tacolini Zeno presidente del Pianico Calcio è arrivata questa grande soddisfazione dopo un anno dove se si era retrocessi praticamente l'anno dopo si vince partiamo dal fatto che terza categoria si era vinto seconda categoria è campionato sospeso stavate facendo un buon campionato l'anno scorso campionato di difficoltà invece quest'anno si torna a vincere quanto è la soddisfazione? ma c'è tanto entusiasmo sicuramente siamo molti soddisfatti un risultato che magari non ci aspettavamo questa domenica perché servono due risultati comunque che sono arrivati però c'è tanta soddisfazione per un gruppo che ha dimostrato di vincere un campionato a cinque giornate dalla fine quindi un gruppo molto importante ma secondo te cosa c'è stato da un anno dove si retrocede all'anno dopo dove si vince? non è che si è stravolta la squadra perché la squadra non è stata stravolta completamente si sono aggiunti i giocatori importanti si è cambiato il mister ma il segreto sicuramente dal mio punto di vista è arrivato dal gruppo dal grande lavoro fatto dal mister da Roby con cui c'è stato subito un ottimo rapporto e chi ha giocato di meno e chi ha giocato tutte le partite comunque erano messi sullo stesso piatto della bilancia quindi questo secondo me è stato fondamentale nello spogliatoio anche chi è entrato dopo ha dimostrato comunque di essere sempre sul pezzo e ha dimostrato di aver fatto comunque bene il pianico è un po' invidiato perché è una squadra che sta bene di problemi non ne hai questo benvenga per le società in un calcio dove in Val Camonica forse se non stiamo pagando un attimino forse solo pianico è sopra e questa realtà stanno facendo bene per il calcio Camuno se vogliamo così chiamarlo sì sicuramente la Valle Camonica è in un momento di difficoltà la nostra fortuna oltre ad esserci noi direttamente comunque quella di avere vicino tanti sponsor e tanta gente che ci dà una mano fare calcio oggi è difficile e se non hai qualcuno che ti aiuta diventa sicuramente quasi impossibile che l'anno scorso retrocessi avete preferito magari acquisire la categoria della Ghisalbese però sai tanti da fuori aspettavano quasi che il pianico cadesse e invece con questa vittoria è la conferma che ci credevate avete fatto tutto insomma avete fatto bene a non voler ripartire a seconda ma credevate che potevate far bene anche in prima assolutamente sì ecco dopo la fusione comunque l'entusiasmo è rimasto alto la società ha messo comunque a disposizione un gruppo di giocatori importanti per il mister Luca ha lavorato bene tutto quello che c'è dietro alla società e tutti i ragazzi hanno dato il massimo è un motivo di orgoglio e di soddisfazione Allora parliamo un po' di futuro prima della squadra è pensare che squadra sarà perché il vantaggio di aver vinto oggi il campionato può essere un vantaggio per il direttore sportivo di poter già costruire avere un'idea di cosa fare l'anno prossimo Pianico campo in erba fa difficoltà per giocare tante squadre avete cominciato ad allenarvi all'overe può succedere qualcosa magari per la stagione prossima ma succedere qualcosa di clamoroso penso di no nel senso che Pianico è gestito in primi se totalmente dall'US Pianico senza nessun tipo di aiuto quindi è già una difficoltà un campo in erba che arriva a fine stagione chiaramente sempre abbastanza al limite ci gioca la prima squadra e altre squadre abbiamo utilizzato due o tre serie a settimana all'overe cercheremo se è possibile di ampliare un po' gli allenamenti all'overe per andare a scaricare un po' la struttura di Pianico che intenzioni ha il Presidente all'anno prossimo in promozione a guardare un po' la favola Falco dove ha vinto la seconda ha vinto la prima poi ha vinto anche la promozione arrivata in eccellenza ma come ripeto sai l'ho sempre detto l'ambizione nostra è altissima e cercheremo di far bene però tutte le categorie hanno la loro storia insomma cercheremo di costruire qualcosa di buono adesso vediamo il discorso delle regole per poi iniziare a lavorare subito sul mercato inseriremo sicuramente qualcosa però questo è un gruppo importante a cui dobbiamo tanto e sicuramente un blocco di questo gruppo andrà avanti per il suo percorso anche in promozione beh sicuramente quando vai a pescare in Valle Camonica diventa sempre più complicato qualche giocatore c'è però se vuoi prendere qualche giocatore o si riesce a fare la classica macchinata o diventa sempre difficile portare gente da Beriscia da Bergamo vi faccio i complimenti perché l'anno scorso dopo una retrocessione con tanto entusiasmo tanti potevano anche calare di entusiasmo e quest'anno penso sia ancora più confermato con la vittoria del torneo ma sicuramente c'è tantissimo entusiasmo io sono contentissimo soprattutto per il gruppo veramente per i ragazzi hanno dato tanto e faccio i complimenti soprattutto a loro a Roby, a Luca e a tutti quelli che ha lavorato dietro perché al di là di tutto insomma dietro dietro al pianico c'è tanta gente ci sono massaggiatosi c'è fisioterapisti c'è tanta gente che gira intorno che si vede di meno ma i miei complimenti vanno soprattutto a loro più che a me La Presidente ha confermato sia mister che direttore? Ma sì penso sia tutto confermato adesso non abbiamo ancora parlato con Roby io non ci ho parlato personalmente però penso che se Roby avrà il piacere di continuare a lavorare con noi penso che sia l'ultimo dei problemi insomma Roby continuerà a lavorare con noi anche l'anno prossimo Abbiamo capito che lo staff bene o male è giusto così però una cosa importante è il passaggio dalla prima alla promozione soprattutto i giovani perché pare che vengano confermati chi toglieva invece pare che vengano confermati i giovani dei giovani non so dirti niente perché le società non hanno ancora saputo niente non sappiamo ancora se ci sarà un giovane due o tre nessuno non lo sappiamo noi parliamo dal presupposto che possa restare come adesso se resta come adesso una squadra di promozione su una rosa di 20 deve fare 6-7 under poi ambiziosa in società anche come ha detto il presidente sarà ambiziosa esattamente quello non è che ci troviamo lì e cerchiamo di salvarci se vuoi vincere e provare a vincere anche in promozione ovviamente devi cambiare il giovane deve essere anche importante deve essere anche bravo perché è quello che poi alla fine attenzione che se dovessero mettere anche i 2005 magari c'è gente che non è automunita e deve venire da te devi trovare il modo cambia un pochino anche perché adesso il 2004 l'avevamo bloccati già ma se dovessero fare due giovani farà secondo me farà ancora 2-4 2-5 esatto scalerà di un'annata per forza per forza è vero che sono 19 anni però qualcuno non ha la patente quelli che sono neopatentati il papà dimandare fino a Pianico se abitano a Bergamo magari con la macchina dovranno anche loro ma non devono insegnare niente a nessuno perché è una società che non ha bisogno che non insegni niente dovranno pensare prima di tutto a mettere i giovani perché poi gli over li troveranno sicuramente ma 6 o 7 giovani per la categoria non è facile a meno che tu non abbia disponibilità economica importanti o organizzi la tua logistica perché come ha detto anche il presidente la Valle Camonica calcisticamente sta vivendo una fase molto molto critica ma non perché i Camuni hanno disimparato a giocare a pallone perché mancano le società sono sparite la semplice il problema del Pianico è che a questo momento non ha vicino settori giovanili grossi importanti che possano quindi sicuramente qual è l'aspetto lì da valutare beh è arrivato un messaggio che mi dice volevo sapere in che anno avete cominciato la remissione lasciamolo dire il decimo anno quest'anno quante natue io e Paolo e Stefano insieme a Luca Carminati e poi abbiamo iniziato anche con Galattini hanno cominciato dieci anni fa la nostra esperienza io e Paolo un po' che giriamo vent'anni che giriamo sul calcio di attantistico più che altro prima era tanta Val Camonica quest'anno da due o tre anni ci siamo molto aperti ovviamente tante realtà gli ospiti magari sono qua vicino a noi soprattutto però siamo aperti al campionato Bergamo-Brescia l'eccellenza a tante squadre insomma questo ci fa piacere comunque è il decimo anno che festeggiamo praticamente quest'anno sono 295 puntate l'altra bene Paolo giocatori in Val Camonica se parliamo ai giovani poi ci sarà se va in promozione una concorrenza col Darfo allora io considero un segnale importantissimo che il piano è che abbiamo vinto il campionato perché la promozione è una categoria che mancava tanti bravi giocatori che non possono andare in eccellenza in Val Camonica vanno a giocare in prima o in seconda e quindi non è che disimparano però si abitano ai ritmi di una categoria comunque non di altissimo livello col Pianico secondo me ci sarà l'opportunità di far crescere anche qualche ragazzo e di alzare complessivamente il livello del nostro cancio due o tre ragazzi qua da Val Camonica sono importanti sono andati a Iseo che sono Baccanelli in Bersini eccetera sono giocatori che potrebbero ma proprio perché in Valle non c'erano alternative se no sarebbero rimasti in Valle esatto per restare in promozione dai prima di andare in pubblicità vediamoci il servizio per chiudere la pagina Pianico con questa vittoria andiamo a vedere sabato Gandinese Pianico sentiamo le parole sia del direttore sportivo Clementi non c'era ancora la matematica ma anche del bomber Masinari giocatore importantissimo Luca Clementi di Es del Pianico che dire di questa partita emozioni a non finire è una partita come la tradizione quando si incontrano Pianico e Gandinese partite noiose non ce ne sono siamo partiti col turbo e abbiamo fatto una abbiamo dimostrato che con la testa ci siamo ancora con un atteggiamento importante un inizio veramente importante che sembrava potesse indirizzare la partita conosciamo l'avversario sappiamo che la Gandinese è una squadra ormai doma e si è dimostrata tale tant'è che la partita è finita secondo me con il risultato con cui doveva finire un pareggio giusto per quanto si è visto in campo per quanto si è visto anche durante l'anno belle assenze diciamo che si sono viste sì e no perché comunque siamo una rosa molto profonda molto equilibrata e direi che chi ha sostituito gli squalificati oggi se l'è cavata veramente bene faccio un applauso anche al nostro portiere Elia che ha sostituito Poetini non è mai facile per un portiere mettersi i guanti il numero uno dopo tanta panchina invece oggi ha avuto un atteggiamento ottimo ha fatto anche degli ottimi interventi per quanto riguarda la prossima partita adesso ci godiamo un po' l'attesa nel senso che poi sarà una partita che in base a domani e i risultati di domani sapremo se avremo uno o due risultati però chiaramente è una partita che ci vogliamo godere comunque vada sperando poi di festeggiarla sul campo di San Giovanni Bianco intanto che ti rispondo a questa domanda tocco il ferro qua vicino sì chiaramente è stata un'annata bellissima ci dispiaceva ci dispiacerebbe non concluderla a livello con cui l'abbiamo condotta quindi l'impegno sicuramente continuerà a essere alto e la sticella sempre alta e per quanto riguarda l'anno prossimo sì è normale che qualche considerazione si sta facendo molto generale e da questo punto di vista penso che l'impiego di alcuni giocatori che magari hanno giocato meno che stanno dimostrando veramente come Luca Bellicini che nell'ultima partita si sta affermando negli undici titolari da questo punto di vista sia le prestazioni dei giocatori sia l'atteggiamento del gruppo che vorremmo comunque mantenere in buona parte di fronte alle difficoltà sono segnali che noi dobbiamo cercare di cogliere anche in ottica del prossimo anno è stata un'ottima partita peccato essere partiti male e aver preso subito due gol però si è riusciti a rimontarla e quasi quasi anche addirittura a vincerla è stato un buon primo tempo nonostante i primi due minuti poi comunque abbiamo fatto noi la partita li abbiamo messi là e peccato solo per il risultato potevamo sicuramente portare a casa tre punti innanzitutto complimenti a loro per il campionato che ormai l'hanno vinto e secondo tempo si li abbiamo messi là loro hanno fatto qualche ripartenza ma noi nonostante ciò siamo riusciti a cercare il gol del 2-2 che l'abbiamo fatto alla fine e poi li abbiamo tenuti fino alla fine per cercare anche di vincerla addirittura andiamo a Brembate a cercare di vincerla come tutte le partite fino alla fine perché dobbiamo fare più punti per rimanere dentro ai play-off che sicuramente non sarà facile perché siamo tutti lì tutte le squadre sono lì e domani giocano qualcuno potrebbe superarci però noi cercheremo di fare tre punti ovunque e cercheremo di star dentro il più possibile ai play-off sì ci saranno tanti scontri diretti ma ormai noi sono due o tre partite che li facciamo e probabilmente siamo molto più motivati a giocare contro squadre non dico superiori ma quelle superiori in classifica e infatti si vede l'atteggiamento diverso non come le prime partite che abbiamo fatto all'andata però al ritorno abbiamo fatto benissimo qui abbiamo parlato di Pianico ovvio che in prima categoria oggi la pagina è Pianico perché è arrivata la matematica anche perché è arrivata la matematica anche se ormai da parecchie giornate diciamo può perdere anche tutte che ormai ha vinto il campionato però c'è di riflesso la gandinese di questo giocatorino qua immaginare che a me piace tantissimo che fa tanta differenza a prima categoria è stato così bocciato in quattro mesi in promozione forse per errore suo per errore anche dall'altra parte per errore di tutti e due Ronaldo se è stata una bocciatura oppure lui abbia deciso di prendere una stala diversa a volte certi matrimoni non funzionano esatto una bocciatura tutte e due perché permette tecnicamente anche in promozione e questo esatto tu sai tempo aveva fatto la sede poi ha giocato in eccellenza con la Bino Gandino quindi le categorie sopra le ha fatte però la gandinese è una di quelle dentro di una lotta playoff io dicevo sono quelle tre che stanno molto bene poi magari la domenica prossima cambia tutto Maranica Villongo e Gandinese sono tre delle quattro che se devo giocarmi un euro me li gioco dentro nei playoff poi ne salterà fuori una delle altre con l'Accademia Valverman in difficoltà fisicamente col Brembate che è fuori Sovere che ha nove infortuni a domenica ed è dura sostituirne uno o due è un conto sostituire tutto il centrocampo tutte le domeniche è molto dura è molto lunga il Lefec può rientrare poi ce ne sarà una probabilmente in questo momento probabilmente le tre che stanno meglio sono Villongo che a parte le prime cinque sconfitte lo ricordiamo sempre poi ha sempre volato e Gandinese Eranica poi ovviamente la classifica dice che 6-7 squadre sono lì attaccate quindi da qui alla fine dell'anno può succedere ancora di tutto però in questo momento le tre più in forma sono queste l'Accademia Valverman era attaccata al Pianico fino a non attaccata direttamente ma comunque era una distanza ragionevole fino a qualche giornata fa hai detto l'Accademia è questa mentre parli Maglia Bianca l'Accademia ne ha perso tante tre sconfitte di fila aveva fatto poi hai perso ieri con il Pian Camuno insomma tanti passi falsi esatto questo sembrava fuori gioco invece c'è Riva tranquillamente da dietro due metri tutto da solo da dietro e Pian Camuto che ha avuto le occasioni penso che l'abbia vinta non lo so io da dei lights mi sembra che abbia vinto meritatamente Paolo Pian Camuno da dei lights io ho visto le immagini diciamo che sia da una che d'altra parte hanno sbagliato veramente tanto però merito al Pian Camuno che passa sotto per questo meraviglioso gol e poi ci prova con grande con grande determinazione qua credo sia il pareggio che sfrutta i suoi centimetri l'attaccante e non è facile quando sei in fondo e giochi contro una squadra che comunque in lotta per i playoff sfoderà una bella prestazione però la squadra di Maggioni ce l'ha fatta e quindi sono contento e diventa pericolosa molto pericolosa perché ricordiamo che è una squadra che sembrava spacciata nell'andata peggio della Torre peccato perché il pareggio con la Torre domenica sa più di sconfitta perché se vinci quella partita cavoli ti tiri su veramente e puoi addirittura pensare di fare il playoff in casa perché quando accorci a quei livelli adesso credo sia a 4 o 5 punti dalla diretta è a 4 dalla squadra designata in questo momento per posizione però vedi che loro le occasioni le hanno avute cioè io vedendo qua negli ultimi minuti si è giocato non dico una porta però le opportunità più importanti le ha avute la formazione ospite beh diciamo anche che la squadra più in difficoltà in questo momento lì dentro è la Zognese squadra partita per altri obiettivi squadra che è giocatore importante abbiamo visto anche il messaggio che è arrivato ma proprio il concetto quando parte come il Paladina parti per fare un grande campionato ti trovi in difficoltà non hai le armi psicologiche perché non ti capaciti del perché stai lì e non hai le armi psicologiche per venirne fuori chi è abituato a fare la guerra nel fango questi sono i due gol del Paladina chi non ha paura del fango non si preoccupa chi invece è insomma abituato a mettere i guanti bianchi capisci la prima difficoltà va in crisi Sì esattamente così sono d'accordissimo ovviamente con Paolo adesso situazione complicante anche per il San Paolo d'Aragon perché a diare il penultimo posto i cinque punti sulla quintultima dicono che c'è un rischio fobbi c'è Paladina Zognese mozza una partita da recuperare anche se a mia memoria il San Paolo d'Aragon ha sempre sofferto io ho sempre visto la squadra l'anno scorso in qualunque categoria ha sempre sofferto sarebbe la seconda seconda sessione consecutiva e anche quest'anno nonostante l'attacco che abbia con nomi importanti perché Fiamarelli Filippoli Facchinetti giocatori importanti davanti però vedi è sempre rimasta lì poche volte dicevamo ma come fate ad essere lì ma se sei lì tutto l'anno mentre le altre Paladina ha svoltato a dicembre da Ferraris poi Comi hanno secondo me sistemato la squadra e hanno portato la squadra a mentalità di tipo la brembilese dalla salvezza e lì magari riesce a salvarti la Zognese e San Paolo d'Aragon in questo momento sono le due che rischiano di più perché se vai a giocarti poi in play-out col Piancamuno è dura poi deve scendere in campo anche perché lì il vantaggio dei gol c'è nel senso che la parità di gol ti salvi però sono due partite hanno a tritorno quindi il vantaggio è meno marcato rispetto ai play-off dove la partita è secca e dopo arriva chi sta meglio sicuramente fisicamente questa è la classifica brembilese 28 con l'asterisco ovviamente quelle che hanno una partita da recuperare neanche a far opposto sono brembilese Paladina Zognese e Mozzo che si giocano le partite ricordiamo che in settimana anzi anche questo mercoledì si gioca la partita di Zognese Paladina se non sbaglio si gioca questo mercoledì il primo recupero e dunque c'è a delineare la classifica sono distribuite in date diverse non le recuperano vanno tutte verso il 3 aprile mentre questa settimana mercoledì c'è Zognese Paladina la partita importante per questo punto per la salvezza perché chi vince qua non dico che è salvo ma secondo me più per la Zognese che per il Paladina perché Paladina nel ritorno sta viaggiando al di là poi di un passo falso o meno mentre la Zognese adesso davvero è in grossa difficoltà io non so quanti punti ebbe fatto nel ritorno ma secondo me ha finito la nata con 22-23 punti sì era 23 se non sbaglio ne ha fatti 4 forse nel ritorno da quando ho cambiato mister forse per me ha fatto un pareggio e poca roba da quello che posso avere visto io se sbagliamo potete sicuramente scriverci il messaggio ovvio che sarà importante Paladina può condensarsi magari anche del pari però sai anche per il Paladina è un colpo riesce a vincere a Zognio non è secondo me nelle condizioni per potersi accontentare del pari riesce a vincere a Zognio lì veramente il salto lo fai a quel punto lì perché vai a 31 superi tante formazioni ma allunghi nettamente sulle altre e addirittura sulla penultima perché poi ci sarebbe una forbicciona di quelle incredibili rispetto a quella che è a 22 ricordiamo prima categoria una retrocede quattro vanno ai play out abbiamo visto le immagini di Pia Camuno abbiamo visto i gol del Paladina grazie a Pelizzoli di essere il Paladino che ci ha mandato i gol ma anche c'è di sempre quando ci sono non solo quelli del Paladina anche quelli che giocano contro le formazioni del Paladina e adesso invece andiamo a vedere c'è la partita fra Sovre e Brembate sopra parlavo ieri col direttore sportivo delle Brembate loro quasi hanno più paura adesso di guardarsi dietro più che pensare ormai ai play off i play off sono fuori un po' da tempo questo Brembate ne è uscito piano piano però 35 sono una zona molto tranquilla direi 5 dalla fine deve suicidarsi infatti alla fine hanno chiesto Sovre mi raccomando Zonio Domenica sarà Zoniese Sovre fate il vostro per voi ma anche per noi ci saranno delle squadre che non arriveranno a 35 eh esatto più diverse sì sì 35 è una quota troppo alta adesso di quelli dietro che devono arrivare di quelli dietro certo se poi pensiamo che la penultima in questo momento è già 12-13 punti da te tu devi guardare Pian Camuno e San Paolo D'Argon è vero che anche il Brembate nel ritorno non dico che come la Zoniese ma anche lei 12-13 punti parlavano anche loro tanti infortuni neanche ieri adesso vedremo le immagini purtroppo un bocca al lupo un ragazzo che si è fatto male perché se ha rotto il braccio vedremo uno scolto di gioco altra senza pesante dopo ieri mancavano anche Sana il bomber e il centrocampista prendiamoci il servizio dai con interviste a Alex che è il team manager della formazione Dobre che è il team manager della formazione del Sovre andiamo a verci le immagini siamo col team manager Dobre Alex per parlare di questa partita un pareggio che forse non accontenta nessuna delle due formazioni sì diciamo partita tutto sommato comunque equilibrata noi appunto siamo partiti dimezzati come in tutte le ultime partite loro dalla loro avevano anche loro due squalificati qualche infortunato siamo andati in vantaggio noi primo tempo potevamo magari concretizzare meglio e abbiamo avuto l'occasione di chiuderla non ci siamo riusciti secondo tempo loro hanno gestito un po' di più la palla partita comunque equilibrata due episodi in un certo senso perché sul nostro gol poteva sembrare in fuorigioco poi dalle immagini sembrerebbe di no però era comunque un episodio dubbio rigore uguale poteva starci così come poteva non starci partita da uno pari risultato giusto alla fine subito l'1-1 ha avuto subito quelle due o tre occasioni con due belle parate da parte del loro portiere dunque lì sembrava dire di trovare di nuovo il vantaggio invece sì sicuramente poi una volta sull'1-0 abbiamo mollato qualcosa e abbiamo iniziato a cercare di gestirla e loro sono usciti leggermente poi sull'1 pari ovviamente come come ogni squadra credo abbiamo provato a riprendere in mano e provare a fare il 2-1 ma non ci siamo riusciti loro si sono difesi bene quindi nulla da dire Alex se viene da un ciclo comunque che continuiamo a sapere i infortunati purtroppo sono lungo da genti quelli del sovere sono tanti uno o due infortuni riesce a sopperire otto o nove sono veramente tanti però si viene da un ciclo pareggio con la Gandinese Vittoria Pianico e oggi pareggio con Brembate che potremmo anche considerarlo abbastanza positivo perché si resta nella mischia ovvio che sarà tutto il rush finale a decidere sì sì senza un bra di dubbio da adesso in poi fino alla fine saranno tutte delle finali vedendo anche i risultati delle altre partite di oggi si è per assurdo si è accorciata ancora di più tutta la lotta per la zona playoff adesso invece di 5 punti sono 3 punti che ci separano dal secondo posto quindi sono tutte da giocare fino all'ultimo speriamo di avere la fortuna di recuperare qualcuno nelle prossime settimane e lottare fino all'ultimo per cercare di essere lì nella zona playoff e poi giocarcela sì fortuna che a dicembre la società ha deciso di acquistare 4 giocatori che si sono rivelati subito utilissimi perché da quel momento in poi abbiamo subito altri 4-5 infortuni quindi senza di loro avremmo giocato in 8 ecco domenica si va a Zogno e quella può essere una partita decisiva la Zogno è in grossa difficoltà forse la squadra anzi senza forse la squadra ha più difficoltà nel giro di torno era partita con altri obiettivi il Sovere forse ha dentro di cell non dico l'obbligo di provare a vincere questa partita perché adesso con uno o due colpi probabilmente ti garantisci di playoff sì sicuramente come dicevo prima sono tutte finali e c'è da dire comunque che nessuna partita è da dare per scontato perché abbiamo visto che anche anche con quelle in fondo alla classifica si tribula abbastanza poi andiamo da loro quindi sicuramente loro hanno il vantaggio di giocare in casa noi cerchiamo di mettere in campo tutto quello che abbiamo a disposizione sicuramente sarebbe importante vincere Alex chiudiamo perché noi lo sappiamo abbiamo visto la matematica anche se sono i cugini anche se ovviamente c'è rivalità sportiva tra voi e il pianico oggi pianico festeggia il salto di promozione no no complimenti a loro hanno fatto un campionato ineccepibile nulla da dire speriamo di speriamo gli vada bene anche l'anno prossimo in promozione facciano il salto come ha fatto la Falco due anni fa beh Alex ovviamente fa gli auguri al pianico che vede anche il miglior portiere Poetini là in testa con la media i 7 la media piuttosto alta per quanto ti ripeto io possono contare qua i voti queste categorie però vediamo che sono sempre portieri lì in cima sono portieri che ci sta molto reale comunque la classifica poi c'è Calusco poi il portiere dell'Anica Fumagalli un bel portierino io vedo solo un portiere o sbaglio Magrini Magrini che però non gioca da 3 mesi 4 mesi non gioca nel ritorno praticamente non ha mai giocato 10 presenti e ti dico che Zambaiti per me in prospettiva è un gran bel portierino sicuramente non ha esperienza di Magrini pian piano se la farà non lo vedo questa classifica dovete fare il portiere di prendere i voti lì è difficile in prima categoria dove non ci sono anche i voti dai giornali è difficile comunque complimenti stila questa categoria ovviamente avranno i loro referenti che li girano oppure non ha un voto per entrare in questa top 20 si era venuto quando abbiamo avuto ospite lo scorso anno chi curava e ci aveva spiegato bene i dettagli adesso non ricordo esattamente però penso ci sia un minimo di presenza da poter entrare e magari Zambaiti sono tante adesso le presenti però nel ritorno dovevo giocare i portieri che fanno la panchina e fanno due partite sono dentro non lo so non lo so però sta facendo bene comunque poi difficile sono tanti prima teoria per Bergamo sono tanti i portieri che girano eccellenza girone via andiamo a verci i risultati vedremo un po' di gol di Trevillese e Colozio e Corta prima apriamo con l'eccellenza girone B i risultati per questo girone vedono il pareggio tra Altabrianza e Mapello che si doveva giocare a sabato invece 0-0 ne approfittano lo sogno che ancora per una rete a zero riesce classica squadra che vince nei campionati ne basta uno non ne servono 5-6 o 7 come ha fatto Trevillese ne basta uno riesce a vincere 1-0 fuori casa la Leon che sta marciando bene 3-0 un caso con Castelleone squadra ovviamente che lottano per altri obiettivi però la classifica adesso la vedete propone questa formazione è bella Bruno per chi vuole vincere il campionato lì è aperta tanto se vogliamo si arriva quasi la Trevillese o meglio l'Altabrianza che con un recupero potrebbe andare a 53 e soprattutto l'ultima giornata c'è Altabrianza Mapello se non sbaglio Mapello Sondrio e Leona Mi sembra che sia Sondrio Mapello Sondrio Mapello Leona Altabrianza so che si affrontavano con le 4 dunque è una grande la classifica io conosco discretamente le squadre tolto il Sondrio che me ne parlano bene e lì anche qui una lotteria però quando sei lì sei tutti a un certo livello il Leon che sembrava a un certo punto aver abbandonato ogni speranza sta facendo invece cose benissimo essere riportato sotto per cui lì cosa vuoi dire lì possono vincerlo tutto si passa Bruno da una Sondrio che ha una mentalità una filosofia di gioco a Leon che ha tutto il contrario di filosofia di gioco eppure è bello vedere tutte e due lì ma il Mapello somiglia molto alla Leon come filosofia si 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 e l'Altabrianza e il Sondrio si somigliano a loro volta si difficile fare un pronostico lo si fa solo a stima io vorrei che vincesse il Mapello perché è Bergamasca perché questo è quello che vorrei però se Ondrio Pertogna però se dovessi fare quel girono lì è meglio che il Sondrio non esiste più perché devi buttare via una giornata andarci per cui sto scherzando naturalmente sono tutte ottime squadre io ho trovato in Coppa Italia l'Altabrianza la prima partita e ho detto attenzione perché questa è un'ottima squadra allenata benissimo e può dare e può dare del filo da torce beh anche nel vostro giovane lo scorso anno l'ha fatto bene è arrivata alla fine quinta una cosa vicino a voi sì sopra noi per un punto o due comunque è un'ottima squadra lì sono tutte ma parliamo di tutte corazzate comunque esatto perché sì ma Pelo forse io vedo sempre continuo a vedere sempre questa Leon che è la corazzata più forte a parte il Sondrio che sappiamo se l'anno di pomeriggio tutti argentini la colonia argentina eccetera eccetera appartamenti eccetera che magari può fare la differenza però la Leon come fantasia con i bonseri Ferrepelle in questo momento Arnado è cadere in mezzo al campo la differenza la fa le dettaglie mancano cinque partite e alla fine te la giochi punto a punto lo fa davvero l'episodio la pericolosità della Leon che lei ogni tanto stecca magari gioca con la penultima fuori casa non in casa perché in casa in teoria la Leon è sempre quasi ma fuori casa magari va a fare una stecca micidiale e adesso non puoi più permetterlo questo questo fa parte della loro filosofia lo sanno benissimo anche loro se costruisci una squadra così non sono stupidi anzi tutt'altro sanno che per fare una squadra così qualcosa in più rischi l'ha messo in preventivo questo infatti Joelson ha sempre ammesso anche lui noi abbiamo solo un obiettivo quello di vincere il campionato non si è mai nascosto Joelson dietro anche quando è sempre rimasto dietro non è mai stato ancora finora prima classifica tante volte poi succede di esserlo all'ultima giornata gliel'auguriamo a Joelson ma ha detto noi abbiamo solo un obiettivo non quello di fare il playoff ma quello di vincere il campionato il nostro obiettivo è quello poi bisogna riuscirci non abbiamo visto i gol li vediamo dai quando rientriamo che poi apriamo anche la pagina eccellenza girone C e quella sono tanta con tutti i gol ma dobbiamo vederci i gol che ci ha girato Salvi su Trevigliese e Calozio Corte e rientriamo con l'eccellenza girone B per vederci poi passiamo subito al C nell'ultima mezz'ora di tempi supplementari questa sera vediamoci i 5-7 gol dei 9 praticamente di Trevigliese e Calozio Corte la Trevigliese è in maglia chiara Calozio Corte e in maglia Granata ci ha messo tanto del suo Calozio Corte dopo questo gol praticamente vedremo questo viene praticamente regalato per il 2-0 alla formazione sì Calozio Corte nel ritorno che ha fatto tanti punti tanti risultati importanti però spesso in cappa in disfatte clamorose dopo 2-5-0 ieri 7-2 insomma sono tre sconfitte nell'ultimo mese clamorose nonostante ripeto abbia fatto tanti punti e si è tornato in lotta per la salvezza a fine annata si aveva destinato all'autocessione grazie Salvi per le immagini diciamo anche che tantissimi punti che fa il Calozio Corte li fa in casa dopo lui come dicevamo prima quando giochi per salvarti in questo girone è ancora abbastanza aperto la possibilità di salvarti se è andato a giocare ci sta preferisco perdere 7-2 Treviglio magari vincere la prossima 1-0 in casa uno scontro diretto che magari come ha fatto fino ad ora andare a far triburare la Trevigliese e poi non batti la diretta per quanto riguarda la salvezza colpo importante la Lemine giocava con l'ultima in classifica l'ultima che però è attaccata alle alte quindi ancora in lotta per la salvezza è andata a vincere adesso la Lemine fuori dalla zona play-out adesso sia una delle prime volte all'inizio stagione in cui non è in zona play-out e deve recuperare ancora una partita e deve recuperare una partita sì qui vediamo nei primi tre posti tre signor portieri Bruno che è Nodari primo classifica Gerardi della Lemine secondo e Gerardi Roberto D'Avertovese terzo poi abbiamo Genini se non sbaglio del Mapello il portiere del Mapello adesso non vedo bene il cognome insomma dei primi tre nomi due fratelli sì ma poi i notari anche come 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 sbagli alla Zecchi sono sicuramente tre portieri io al mio sono legato particolarmente perché come conosco come portiere come uomo ma gli altri due sono portieri eccezionali cioè lì e poi lo vedremo Gerardi il punto D'Avertovese di ieri porta la sua firma no vabbè ma non possiamo discutere i due fratelli Gerardi assolutamente e anche Gerardi dell'Emine anche Riccardo sta facendo bene perché ricordiamo l'Emine quest'anno ha svoltato cioè rimensionato parecchio se ottiene la salvezza per me fa un grande colpo il Emine a ottenere quest'anno la salvezza di San Pellegrino che viene rimbischiato insomma lì sarà una bella battaglia anche per la salvezza ne parleremo in questo girone adesso andiamo sul girone C dai andiamo a verci i risultati e cominciamo perché qui abbiamo tutti i gol delle partite dobbiamo parlare con Sassani della UNS che l'anno prossimo punterà sicuramente la Serie D ma poi ne parliamo assieme a Bruno guarda già male ce l'ha detto in pubblicità che vergogna non vengo più Bruno lascia a commentare cominciate a commentare i risultati la giornata poi Paolo Stefano dai Bruno giornate lasciamoci i risultati se mi lasci i risultati così te come Pavonese Casazza ottimo risultato per il Casazza e per la Juve nel presa lunghese ha tenuto fermo la Pavonese a distanza a super distanza di sicurezza per cui il risultato che va benissimo e dimostra che il Casazza è una squadra come si sapeva una squadra che vende cara la pelle ovunque sta facendo un ottimo campionato Bedizzolese Falco questo risultato sorpresa non tanto per la Falco ma quanto per la Bedizzolese che in casa solitamente è il loro fortino è difficile di andare a portarli via punti la Falco c'è arrivata c'è riuscita tanto di cappello c'è molto del portiere del pareggio della Falco ecco io non l'ho vista io ti sto inizio con la 94 grande punizione per l'amore non vogliamo togliere anzi il merito grande della Falco di crederci se è lo stesso portiere che ha giocato l'ultima di campionato da noi non ci posso credere perché è il portiere più forte che ho visto io negli ultimi vent'anni e il portiere cosa ha fatto quel portiere da Bedizzolese a Prada Lunga sono cose inennarabili no ma noi dicevamo di Gritti che ha fatto grandi parate portiere da Falco ah ok io pensavo stavo parlando dell'errore del portiere della Bedizzolese sulla punizione ci sta dopo lo guardiamo da noi da noi posso dirti che ha fatto cose che ha fatto cose cose eccezionali da noi per cui magari domani se lo vediamo magari ha fatto un grosso errore domani Cazzago Bornato Scanzorosciate in questo momento è un risultato quasi scontato Cazzago Bornato che ha perso un giocatore come Scaglia per infortunio due o tre settimane fa non ce l'ha e secondo me vale il 50% della squadra non aveva un altro ma perdevano anche con Scaglia però beh no l'andata manca Scaglia adesso deve rientrare anche la punta di 2004 però 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 l'andata l'andata avevano fatto bene insomma hanno giato anche capitani nel ritorno Cazzago Bornato una vittoria un paio e nove sconfitte ha fatto 4 punti l'andata aveva giato a 28 però lo scanzo è lo scanzo lo scanzo è un'ottima squadra e spero che continui così per fare i playoff lei e la Vertovese devono fare i playoff per tenere alto la bandiera delle Bergamasche che faranno bene sicuramente Ciri Verghe Atletico Corte Franca risultato quasi scontato devono essere anche 10 ma se erano 10 a 0 10 no ma 8 a 0 Darfo Spitaletto sulla carta è un risultato anche se poi magari il campo non l'ha detto ma sulla carta è un risultato che ci stava ma il campo ha detto un'altra cosa sicuramente il campo dice io sto vedendo io sto ragionando sul risultato se avessi fatto la schedina io avrei messo due fisso l'avrei indovinata probabilmente però sai Spitaletto non è che può sempre sbagliare uno squadrone sta dimostrando ancora questa secondo me è una vittoria fondamentale per l'ospitaletto e al Ciri Verghe 51 da parte la Vertovese dietro hanno vinto tutte tu immaginati se l'ospitaletto la pareggia il Ciri Verghe con una gara da recuperare potenzialmente ti arriva sotto e poi Ciri Verghe sarebbe nato a 7 e poi Ciri Verghe sta bene l'ospitaletto non è ancora guarito del tutto deve recuperare la partita a Carpenedro che vi posso assicurare che non è una partita facile nel ritorno a primo classifica il Ciri Verghe nettamente no nel ritorno a prima la Prada Lunghese con il risultato ieri per me con il risultato ieri no siamo avanti siamo a 23 punti noi e 22 loro e per quello che puntano l'anno prossimo e loro hanno una partita in meno sai che promuovono la prima dell'andata e la prima dell'andata speriamo che non sia così speriamo di perdere qualche punto no sto dicendo che Ciri Verghe potrà diventare la squadra che ha fatto più punti in ritorno se fa punti contro il Carpenedro a momento siamo noi ma certo perché saltate una partita però torno a dirti nulla a togliere non possiamo paragonarci noi al Ciri Verghe paragoniamo l'oro al ferro per cui noi siamo il ferro e vogliamo rimanere però nel ritorno non sono due partite sono un bel lotto di partite noi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo unici partite senza perdere sono tante in un girone come questo siamo non orgogliosi di più di quello che stiamo facendo però poi bisogna essere anche consapevoli che tra noi e il Ciri Verghe a fine campionato ci sarà un certo margine di punti perché è giusto così la domanda viene spontanea però ci mi legge due messaggi perché la domanda io penso che Paolo ha già detto cosa volevo chiedere uno dice cosa vuol dire Altabrianza e Sondro assomigliano a Leone Mapello stessa filosofia non ho capito no al contrario cioè che si assomigliano Altabrianza e Sondro e Leone Mapello sono due squadre che puntano come la vedo io a un calcio offensivo e magari concedono infatti i risultati sono spesso abbondanti di reti l'Altabrianza Tavernerio e il Sondro invece sono squadre più pratiche tipo il Palazzolo minimo risultato eccetera cioè molto più coperte questa era semplicemente e poi mi dicono faremo punti domenica col San Pellegrino visto che li fanno tutti saluti da Colozio Corte non sarà ascoltato Colozio Corte San Pellegrino gran bella partita per la salvezza almeno noi che la guardiamo da fuori per loro magari sarà un po' più drammatica qual era la seconda della domanda che io dicevo mentre parlavamo di Jonas Pranghese che siamo a Cesani che dicevo ma è la Pranghese del ritorno che vuol dire se ha sbagliato qualcosa l'andata o è una via di mezzo all'andata è stata troppo male all'arrivo di Mignani è stato ha coinciso con un cambio radicale anche nei risultati qua sono le immagini di ieri se siete la squadra che ha fatto più punti nel ritorno evidentemente questa mossa ha avuto i suoi cos'è cambiato così tanto cos'è cambiato è cambiato l'allenatore allora fermo restando che Mignani era già alla Pratalinghese prima ma faceva altro faceva altro e Piccinali è rimasto anche adesso per cui non è stato esonerato e va in panchina con Mignani perché noi abbiamo visto è sembrato un po' anomalo ve l'ho detto più che inusuale io vi ho scritto il messaggio vi ho detto non è anomalo è inusuale perché solitamente questa cosa non si fa e vi ho anche detto solamente i risultati questo poi lo rivediamo solamente i risultati diranno se abbiamo indovinato se abbiamo fatto bene se abbiamo fatto male noi abbiamo pensato sapendo Mignani le qualità umane e tecniche di Mignani perché avendolo in casa e poi lo conoscono tutti quali sono le proprie caratteristiche abbiamo pensato che essendo in un momento di difficoltà perché è una difficoltà a livello di numeri di punti poteva essere interessante il provare a usare tutte le armi che erano a nostra disposizione tra le armi a nostra disposizione c'era quella di Mignani e abbiamo usato Mignani e questa ci ha portato dei risultati ecco Bruno io voglio chiederti magari poi lo penso solo io dico una castroneria per me Picinari è un grande allenatore anche per me soprattutto insegnare calcio e soprattutto magari con i giovani in quel punto lì se vuoi insegnare calcio mentre Giacomo magari più tecnico più ma più esperto più svezzato più sicuramente la vedo così è per quello che anche i Picinari non hanno perché non era ma nessuno ha mai detto questo e ha dimostrato di essere anche una persona intelligente perché è rimasto lì avendo un buon rapporto pochi li avrebbero fatto molto pochi vuol dire che si è trovato bene si è trovato bene con i ragazzi con l'ambiente Mignani ha insistito perché Picinari restasse perché sa che poteva essere così un valido aiuto e poteva esserli d'aiuto per il futuro infatti secondo me adesso noi vediamo Mignani al timone nel ritorno i punti li vediamo con Giacomo ma qualcosina anche di Picinari dietro non si è ma Giacomo ma qualcosina è di tutti c'è nell'allenamento nel è qualcosina sono entrambi fanno l'allenamento entrambi preparano le partite insieme chiaramente Mignani un'altra esperienza un altro bagaglio tecnico diverso da quello che potrà avere Picinari Picinari lo potremo giudicare fra vent'anni quando avrà fatto quello che ha fatto Mignani però poi alle spalle c'è anche il lavoro dei ragazzi e tante altre situazioni uno comunque ha un futuro in politica non so se ne vanno mai dentro no il mio futuro è fare il pensionato è fare il pensionato sì però è un dato di fatto che davvero Mignani ha fatto svoltare la stagione la Pata Lunghese a fine andata Juve la Spada Lunghese a fine andata era in piena zona play out nel ritorno non ha perso una partita sei vittori cinque pareti non avete preso gol per un bel po' di giornate risultati clamorosi ma mi sembra di averlo anche sì sì no di averlo anche sottolineato questo è il vantaggio di Berbeni che è il secondo era solo per evidenziare ulteriormente perché davvero ha svoltato radicalmente e questo perché oggi mi dicevi vorrei rivederlo anche perché era una palla che non prendeva mai nessuno esatto è strano questo calcio di rigore su una palla che non prendeva mai nessuno e probabilmente adesso bisogna vedere se c'è stata la spinta o meno se c'è stata poi l'arbitro deve decidere se dare rigore o meno mi sembra anche un po' eccessivo non è scandaloso scandaloso ma di scandaloso non c'è niente non era neanche scandaloso se non fischiava cioè non era così la vista è una palla che scavalcava tutti probabilmente è stato bravo l'attaccante che ha un po' evidenziato la cosa è stato un po' ingenuo il nostro difensore che su una palla che l'attaccante non poteva mai arrivare magari l'ha fatta la spinta per cui però fondamentalmente la partita è stata fatta è stata fatta una partita maschia fisica da entrambe le parti e secondo me sono due squadre che ieri si sono equivalse due squadre che stanno bene tutte e due nella vostra settimana con la Vertovese che a Penedolo è una squadra solida dietro è davanti a qualità è rapida quando riparte è una squadra che fa male qui è solo con Gino ma pure sono immagini del casazzo sono partito da qua perché questo gol vuol dire praticamente salvezza per Lupo Sana questa è la risultanza del secondo gol esatto la risultanza del secondo gol ho partito da lì perché ho detto questo praticamente è il gol che insomma un casazza che io come tanti avevamo messo nella griglia in grossa difficoltà per la salvezza trovarsi lì ormai salva a ieri vuol dire un grande risultato il casazzo ha fatto un grande percorso c'era un precedente del casazzo ha partito con grossi dubbi con Sana in panchina in eccellenza e non era finita bene quest'anno invece ha fatto una gran stagione e sono stati bravi sono stati molto bravi l'accadori con Luca Sana poi ritrova sempre il gol perché non è che sono stati bravi perché guarda che è tutto regolare tutto l'anno lasciare quando ci hanno detto i gironi che ci avevamo messo in questo girone all'inizio dell'anno la mia prima preoccupazione era pensare quali potevano essere se saremmo riusciti a mettere dietro sei squadre e ti posso garantire che pensare di mettere dietro sei squadre in questo girone qua non è per niente facile è scontato è casazza che ci sta riuscendo come ci stiamo riuscendo noi devo fare gli stessi complimenti a loro come devo fare ai miei ragazzi lui una doppia parata di Fenili e poi una partita come quella ieri dove c'è quell'errore portiere ma cosa vai a fare qua poi dalle immagini che ringraziamo ovviamente Zambelli e Casazza però le partite come quelle ieri che dici quasi il sabato basta il pari Casazza vai giù fai quel colpo lì niente ne ha fatte tanti ha fatto un favore a tante altre squadre quante partite anche noi vi abbiamo detto oggi potrebbe andare bene anche il pari siamo andati ad Arfo oggi potrebbe andare bene il pari l'abbiamo vinta siamo andati a Castiglioni oggi senza sebbene il pari la vinci e quelli sono colpi importanti che ti cambia la calcina e questa è la partita a Berizzole dove Gritti fa parata e poi lo sentiremo in portanti la Berizzole ha già avvantaggio sembra portare a casa la partita ma non la Falco fino alla fine della stagione poi ci sarà Falco Vertovese domenica non molla mai non bisogna mai pensare a dire perché è ultima perché è retrocessa perché anche se sei in vantaggio la partita è finita io ho già visto queste immagini devo dire la Falco ha giocato una partita di grande cuore grande carattere fino all'ultimo ci ha creduto e non è scontato perché se sei ultimo in classifica ti verrebbe voglia di prendere le goleade bisogna farli invece questi qua non morano mai ed è un grande vantaggio sul campo è difficile sì a Berizzole guarda che le squadre che vanno a vincere a Berizzole le conti veramente però il contesto il concetto è questo che l'ultima azione la punizione io poi vorrei che la guardassimo e la commentassimo insieme secondo me tu non puoi prendere un gol del genere la Berizzole non può prendere un gol adesso arriverà venendo male qua Berizzole in maglia bianca a occasione qui l'ha tenuto in gioco questo è il gol del vantaggio è tenuto in gioco e questo ha fatto gol vabbè Gritti ha tenuto fin quando ha potuto sentiremo come qui non poteva davvero fare nulla e qui grande azione ancora bravo qua non ho capito cosa ha fischiato il direttore di gara perché sembrava rigore in teoria non so che si ha ammunito qualcuno si ha fischiato un fuorigioco ha alzato la mano teoria un fuorigioco che non esisteva perché ho guardato le immagini però questo è quanto poi qua una grande parata questa l'attaccante sbaglia questa è la punizione e poi l'ha messa bene potete coprire il palo là punto basta sì potrebbe fare allora c'è un mezzo metro per far passare il pallone può passare solo il pallone non ce la fa più vedere il portiere no adesso Felix no perché queste sono le immagini che le ho io a Felix dove sono messe insieme alcune partite ritorniamo indietro dopo a Cazzago Cazzago Scanzaro la rivedremo dopo con la punizione lì forse per me partita a senso unico anche se poi Cazzago in maglia bianca qualche opportunità l'ha avuta però grande predominio territoriale lo vediamo nelle immagini dello Scanzo insomma Bruno noi dicevamo sempre di questo Scanzo io e Paolo diciamo l'abbiamo visto qualche volta abbiamo detto sì fino a 12 giocatori lo Scanzo è forte poi Brambilla quando deve guardarsi la panchina molto giovane troppo giovane dunque vuol dire che è una grossa conferma restare là davanti e aver fatto con gli ultimi colpi di Rovato quello di ieri se vogliamo eccetera domenica arriverà il Darfo con una scanzo quando hanno detto i gironi io pensavo che con le rose che avevano sia lo Scanzo che la Vertovese potevano giocarsi forse non il campionato ma i playoff e così stanno facendo lo Scanzo a livello numerico forse non è completa come la Vertovese un po' più corto è meno profondo un po' più profonda però vedo che l'obiettivo che si erano prefissati lo stanno portando a casa in modo eccellente entrambe sono allenate benissimo una da Brambilla e l'altra da Bollis per cui non ho niente che invidiare alle Bresciane secondo me se la giocheranno fino alla fine per questi playoff che secondo me faranno la forza dello Scanzo che tutti direbbero vabbè è Bosis Capelli tutti io magari dico è Bosis Capelli quando dici due nomi così per l'eccellenza però sono Valois e Zambelli secondo me ma anche dietro Zucchinali è una buona squadra è una buona squadra Pelati in porta dopo va bene se paragoni se paragoni la rosa con altre forse un po' meno ricca ma Bollis facci vedere il gol no allora io non lo confermi niente allo Scanzo ma mi sono giunte voci che Pelati non ci sia più no non c'è più infortunato e poi confermi che non c'è più hanno portiere complimenti al giocatore che segna questo gol però al 90 cos'è qua al 90 per me asbattamente la barriera uno può prendere un gol così è il tuo palo non è il suo palo no non è il suo palo Paolo il palo era la sinistra ha sbagliato la barriera doveva mettere la barriera più spostata di là ma no è il suo palo questo il palo è questo no il portiere deve coprire quello che non è coperto dalla barriera ma nessuno dei due guarda adesso Ferris mi stai girando eccolo qua pianino la posizione della centrale il palo è questo qua a destra a sinistra il portiere solo che lui è troppo centrale e lascia sguarnito il palo io per un sinistro avrei spostato la barriera mezzo metro più in là e dovevo coprire il palo di qua se cacciavo in destra ovvio che la barriera è messa bene e lui che ha messo male però non è una papra può essere un errore è un errore grave però dici grave la casa sta bene però è messa là ma se il portiere sta sul suo palo la prende così la prende in presa normalissima e porta a casa i tre punti per come la vedo io ci mandano dei video purtroppo non riuscirò a mandarli vi leggo il messaggio le immagini di Falco Benizzolese mancano il video di un rigore non dato alla Benizzolese e il gol annullato per fuorigioco inesistente di un metro abbondante di Bertoli purtroppo nel senso di dire le immagini le ringraziamo Savi però a Benizzolese hanno preso un gol da Polli l'amico della Benizzolese mi ha girato le immagini le tiro le orecchie all'amico della Benizzolese ma che non mi ha girato le immagini gli dice no le avremmo visto ma le ha girate adesso ti ringrazio se vai a vedere il discorso torni indietro è un discorso scanzo un attimo se vai a vedere lo scanzo penso che abbia fatto molti più punti in trasferta che in casa a mia memoria può essere in effetti per il tipo di situazione che ha per cui probabilmente è il campo il loro campo non li agevola probabilmente no non li agevola probabilmente è un campo che non li agevola perché fanno ottimi fanno più risultati fuori casa che in casa effettivamente ha vinto a Rovato ha vinto a Bagnate con la Vertovesi trasferta ha fatto tanti colpi il Rovato è entrato in campo al trentesimo minuto circa come mi han detto però possono una partita tra due squadre che hanno grandi potenziali offensivi poi non so quanto possa pesare in casa Rovato l'assenza di Lini è stato sedercato 4 turni la partita di recupero che c'è fra Scanzo e Orceana deciderà non tanto per lo Scanzo quanto per l'ultimo posto dei playoff perché se dovesse vincere l'Orceana si inserisce una riflessione su questa Orceana che lascia che i riflettori siano puntati è un'ottima squadra se dovesse fare il risultato a Scanzo si inserisce pienamente anche lei nei playoff adesso è proprio ridosso sì io sto guardando i due video non riusciremo a mandarli perché da qua dobbiamo trasferire le gie diventa un modificio non abbiamo più neanche lo spazio pubblicitario allora sul calcio di rigore primo calcio d'angolo sì per rispondere al messaggio arrivato da Benizzolese c'è una spinta una trattenuta eccetera con l'arbitro comunque non molto distante la decisione non fischiare sul secondo dove c'è il fuorigioco di Bertoli che poi va in porta segna salta al portiere sembrerebbe vedendo che possa partire in posizione regolare anzi facilmente parte in posizione regolare poi l'arbitro facendo andare avanti a un certo punto dopo aver segnato guarda la linea che alza e annulla questo è per essere onesti del video che sto vedendo io al di là di Benizzolese o Falco ovviamente non eravamo prima non riusciamo a girare rispondo al messaggio vai Paolo stavano dicendo ci manca di vedere il Darfo adesso ci manca di vedere il Darfo io prima invece vi faccio sentire gritti perché 30 secondi di questo portiere che ha fatto comunque grosse parate a Benizzole andiamo a sentirlo Savi l'ha raggiunto a fine partita andiamo a sentire e dare meriti a questo portiere sta sostituendo Speroni per me senza nulla toriere a Speroni che se n'è andato vediamo complimenti per la grandissima prestazione penso in assoluto migliore in campo tre parate decisive penso di aver fatto la mia parte almeno oggi nonostante ormai manchi poco all'ufficialità quello che inconta è dar sempre tutto e penso che oggi abbiamo dimostrato fino all'ultimo secondo siamo rimasti lì in partita e alla fine siamo riusciti a pareggiarla un punto che per la classifica serve ben poco però continua a darci morale che ci aiuta per affrontare sempre ogni settimana nel migliore dei modi questo è Gritti allora prima di vedere il Darfo Paolo andiamo a vedere la Vertovese così ti faccio vedere anche le due immagini mentre vediamo un po' di Vertovese iniziamo al servizio Stefano vuoi lanciare qualcosa su Vertovese o lanciamo di tutto il servizio possiamo parlarne dopo prima vediamo il servizio dai vediamoci subito il servizio Vertovese pareggia in casa con la Castellana 1 a 1 e grazie a Gerardi che al 94 ha parlato rigore vediamo come nella decima di ritorno della regione C di eccellenza la Vertovese impatta 1 a 1 in casa contro la Castellana ospiti in vantaggio nel primo tempo con Taibala la Vertovese ha pareggiato in avvio di secondo tempo con la Torre Seriani che nelle ultime tre sfide hanno accolto due pareggi e una sconfitta Seriani che però hanno diverse assenze pesanti tra le altre Messelaglia Granillo Cariello e Cortinovis oggi dopo un primo tempo complicato hanno reagito nel secondo tempo pareggiando con la Torre sfiorando due volte il sorpasso con Ballabio e Belotti nel finale però hanno rischiato tantissimo rigore in pieno recupero per la Castellana Secli è stato murato in corner da Gerardi che ha regalato un punto prezioso ai suoi Vertovese che scivola al terzo posto scavalcata dal Cidiverghe ma resta in piena zona playoff dal quarto posto la Castellana reduce da tre vittorie consecutive ha confermato anche oggi di essere una squadra in ottima condizione di forma squadra che ha conquistato la salvezza obiettivo stagionale squadra che però è vicina anche al treno playoff siamo con il direttore generale Gianandria Bortolotti tante assenze per la Vertovese avete comunque lottato alla fine 1-1 sì tutto il primo tempo che poi in mente eravamo un po' così non prendevamo le seconde palle andavamo sempre in ritardo però il secondo tempo è stato positivo mi ha regalato un rigore inutile perché certi rigori non si devono fare e accontentiamoci di quello che abbiamo è un momento difficile e cercheremo di superarlo oggi dopo un primo tempo non bilante nel secondo tempo nonostante l'assenza la squadra ha cambiato passo sì come ti dicevo nel secondo tempo la squadra ha cominciato a aggredire un po' più alti siamo andati abbiamo voluto giocarla perdevamo 1-0 e secondo me la squadra ha capito che è inutile star qua aspettare dobbiamo avere coraggio è un momento dove purtroppo chi guarda le formazioni vede come siamo però il calcio è questo prima eravamo tutti a completo un mese a questa parte che abbiamo qualche problemino però oggi la squadra è il secondo tempo mi è piaciuta siete in zona playoff ovviamente adesso puntate a recuperare gli assenti per lottare fino alla fine vabbè in zona playoff penso che ce la siamo meritata tutta quella è la cosa più importante perché siamo arrivati arrivati attraverso il gioco attraverso determinate situazioni oggi cercheremo di starli ce li meritiamo vogliamo farli questa è la cosa importante l'ultima partita ecco rientriamo in diretta allora sì non è nessuno della Castellana no ho chiesto ho chiesto a qualcuno se qualcuno voleva parlare ma il mister era già nato i giocatori non volevano parlare comunque Castellana che nel ritorno sta facendo è tornata a fare le prime sei partite la prima in classifica con 16 punti ha fatto un blackout poi ha messo dentro dei giocatori nuovi a gennaio e adesso sta facendo un campionato importante nelle ultime tre tre vittorie e ha battuto l'ospitaletto per cui è un osso durissimo io non la vedo proprio come una sì sì è vero sono d'accordo poi è vero sono squadre che ricordiamo venute su tutte e due l'anno scorso dei playoff perché Castellana orceana una ha vinto il playoff e poi di salita l'orceana davanti i due attaccanti di colore Morosieva e Faye Pap sono buoni attaccanti Taiba un bel trequartista fa anche la regola sicuramente un'ottima squadra la Vertovese è vero che nell'ultime quattro non ha vinto tra pari una sconfitta ma anche è vero che ha tanti assenti ha fuori la coppia d'attacco Messeria Granillo ieri mancava Cortinovis chi ha giocato al suo posto lo laterale Ornaghi si è fatto male nel primo tempo mancava Cariello quando le assente sono tante ovviamente qualcosa non puoi neanche pensare che le possa vincere tutti trovo anche delle buone squadre con me tanto di cappello il campionato che sta facendo la mia non era una critica anzi era un attenuante al fatto che nelle ultime quattro partite non ha proseguito la serie precedente ci mancherebbe ieri primo tempo un po' attendista nel secondo tempo ha risposto bene perché l'aveva pareggiata ha avuto due occasioni anche per andare in vantaggio certo alla fine la chance Grossa viva la partita l'ha avuta la Castellana con il rigore parato da Gerardi però con le attenuanti Paolo adesso sono quattro partite bisogna rimbloccarci le maniche e finire Cilberga viaggia da paura lo scanzo anche per cui sai se vuoi mantenere il posto privilegiato nei play-off perché io presumo che ormai l'ospitaletto sia raggiungibile devi ovviamente cominciare a macinare punti mantenere il posto privilegiato e il posto anche nei play-off soprattutto di mantenere di mantenere punti e di continuare a fare punti perché se fai come nell'ultimo 4 ma io non temo che la Vertovese possa uscire dai play-off serve un colpo serve poco basta una vittoria però vi consiglio di vedere anche le prossime partite che ha Falco e Pavonese teoria sulla carta sono match point allora sicuramente sono partite difficili e dure esatto se voglio incontrare la Pavonese o trovare Ciliverga allo scanzo io preferisco trovare la Pavonese sicuramente perché se dovesse anche fare quattro punti non sei dovesse fare quattro punti in due partite e poi stiamo parlando di Vertovese in un altro tipo per cui sta facendo un grandissimo campionato sicuramente forse perché abbiamo sognato per un certo periodo ha perso con Corte Franca ma veniva da 12 usati utili di fila 8 vittoria 4 pari però Corte Franca ieri immagini di Darfo Paolo ti lascio a te perché c'era la partita andiamo in conclusione magari non sentiremo facilmente non sentiremo con Gliandro Darfo è all'ospitaletto in maglia aranciona che veniva appunto dalla vittoria di domenica scorsa questo è il primo gol gran gol di Peli è stato l'autentico matatore della partita bellissimo anche il secondo gol nato però da una punizione che il direttore di gara ha concesso in maniera un po' così cervellotica devo dire la verità all'ospitaletto si è presentato con tre assenze pesantissime erano in tribuna davanti a me ed erano Zanelli Gritti e Boldini perdere quei tre giocatori significa perdere comunque un faro in difesa un motorino inesauribile a centro campo che è anche un Boldini che insomma gioca in difesa ma è anche lui un motorino importante e infatti sul piano del dinamismo l'ospitaletto secondo me sta pagando tanto perché se il Darfo avesse avuto la forza di alzare un attimino i giri avrebbe messo ancora di più in difficoltà la formazione di Quaresmini soprattutto in un secondo tempo questa è la grandissima parata di serie io di parata di Bertoli non me ne ricordo loro l'ospitaletto ha fatto due gol meravigliosi ecco questa è la punizione questa è la punizione secondo me è regalata dal direttore di gara e poi l'ha messa insomma benissimo qui Bertoli di colpe Bertoli ci ha provato se l'avesse parata probabilmente ma non solo Bertoli se si fosse stato anche in maniera secondo me non uso nessun aggettivo ma mettetecelo voi a scelta ha espulso l'allenatore dimostrando di capire poco anche le dinamiche psicologiche di una partita comunque abbastanza importante abbastanza tirata e detto questo il Dart mi è piaciuto nonostante la sconfitta perché all'inizio del secondo tempo il mister ha cambiato modulo è tornato al 4-3-3 a lui molto caro ha inserito Gatti un 2006 di buonissima prospettiva e ha messo alle corde l'ospitaletto per almeno 20-25 minuti e poi è venuta fuori insomma la grandezza del singolo Pedi che ha fatto un gol meraviglioso e ha fatto vincere i suoi due gol meravigliosi perché anche il primo passa un po' così la girata a sbloccare una partita che sembrava comunque incanalata o sul pareggio o leggermente pro Darfo secondo me è stato questo gol meraviglioso però Paolo nel ritorno l'ospitaletto davvero tanta fatica inimmaginabile allora quando tu hai Sodinia a metà campo che ha grandi piedi però voglio dire più pancia di me di Arnaldo voglio dire a livello di divanismo ragazzi miei Sodinia non può darti lo stesso Panatti grande tecnica però molto compassato Zanelli coi due lì cioè insieme lo stesso Marazzi che sta lì a metà senza Zanelli in parte fa fatica molto perché deve sobbarcarsi il lavoro che non possono fare i due compagni di reparto quindi secondo me il problema è proprio l'assenza di certi giocatori che ha fatto perdere il dinamismo io so solamente dirti che con noi perdevano 1-0 a un certo punto ha messo Bertazzoli che è un attaccante di altra categoria e ha messo Mattei che è un attaccante di altra categoria ieri Mattei praticamente nullo è pronto qualche spunto ma poco però se stiamo a pensare all'ospitaletto che probabilmente arriverà magari con dieci punti di vantaggio ma attenzione sai che veramente dopo con i secco in ma certo quella punizione incredibile ha risolto tanti perché fare un punto ieri col Ciliverga hanno vinto tutto ieri tranne la vertovese perché se tu pareggi quella partita il fiato sul collo degli altri lo senti non dico l'ansia non ha vinto in questo momento a Darfale è una cosa ha fatto tanta roba i punti che ha lasciato sono quelli precedenti l'ospitaletto li ha lasciato ma li ha fatti la difesa ieri ha concesso pochissimo il parato di Bertoli non ne ho viste se doveva vincere il caspice l'anno scorso l'ha vinta l'anno scorso se però quel gruppo lì che l'anno scorso ha nominato il campionato fa un giro allo stesso livello non pensi che ne ritorno caldi mi diceva Paolo una cosa giusta hanno un anno in più alcuni giocatori che già avevano gli anni e poi magari dico io il Ciliverga magari è un pochino meglio dell'anno scorso è anche un girone piuttosto rispetto a quello però io vorrei avere tutti gli anni questi problemi che ha l'ospitaletto vabbè questo siamo in chiusura grazie a Fer apri la pagina salvezza l'apriamo la settimana prossima se devono ancora preoccuparsi però c'era ancora la forbice però anche perché ormai le squadre sono quelle merito a chi si è salvato però le ultime quattro veramente non stanno più andando non stanno più andando c'è domenica una partita secondo me che dirà se è così o meno Forza Costanza in casa contro Cazzago Bornato esatto se la Forza Costanza in casa che in casa sua è sempre un bel tempo tosta dovesse fermare il Cazzago Bornato anche lei magari non solo per lei ma per le altre sopra in questo momento l'unica che puoi tirare dentro è Cazzago Bornato l'unica che puoi tirare dentro sì Darfo lo vedo difficile perché poi una partita quella sopra lasciamo perdere l'unica è Cazzago detto bene anche per Martinengo anche per Forza Costanza è l'unica occasione è l'unica occasione se dovesse se dovesse lui deve giocare tutto lì se dovesse riuscire a vincere non è che il Cazzago Bornato però da parte del Cazzago dicono se noi vinciamo a Martinengo è finita è finita però Forza Costanza ha ancora questa possibilità grazie a Bruno Cesani di essere stato con noi grazie a voi dell'invito vi vediamo poi noi andiamo avanti tantissimo tempo grazie a Paolo Piscinelli Stefano Samoltelli bello di parlare del nostro calcio con tante immagini che ci manda la gente insomma le società come anche le immagini a Juvenici in casa che fanno secondo me ricca la nostra trammissione grazie agli sponsor che hai lavorato di frequente a Felix e ovviamente l'appuntamento è sempre a lunedì prossimo ricordiamo turno infrasettimanale di campionato di promozione questa settimana il mercoledì mentre la settimana prossima si andrà a giocare il turno infrasettimanale prima categorie poi ci sarà la ferma di Pasqua buona serata